Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto al convegno dal titolo difetti di beni acquistati dal condominio e appalto e le conseguenti novità normative. Io sono il presidente dell'Ordine Ingegneria di Verona che insieme a Virginia Gambino Editore abbiamo organizzato la fiera del condominio all'interno del quale si instaura questo convegno. È un convegno che nasce dalla necessità da parte delle professioni di avere la visione sui condomini in maniera interdisciplinare. Questo è il motivo per cui cerchiamo di dare alle professioni tecniche come ingegneri, architetti, geometri e periti una visione più legislativa e normativa mentre diamo l'ottica alle professioni tecnico-giuridiche quella che è l'ottica e il lavoro delle professioni tecniche in senso stretto. Questo è il senso di questa fiera del condominio dove vede la presenza di tutte le professioni all'interno di un unico contesto. Per questo ringrazio i presidenti degli altri ordini, in particolare i geometri, il geometra Fiorenzo, l'ordine dei periti di Verona, l'ingegner Marchetti, l'architetto Faustino dell'ordine degli architetti, ma ringrazio anche per questo convegno il presidente avvocato Barbara Bissoli in rappresentanza dell'ordine degli avvocati e il dottor Alberto Mion in rappresentanza dell'ordine dei commercialisti di Verona. Speriamo che, come sempre, questa collaborazione sia soddisfacente e soddisfi tutti quelli che partecipano al convegno. Ormai il professor Dalla Massara e l'avvocato Romano sono nostri partner già da almeno... Dalla terza edizione che collaborano con noi e noi abbiamo il piacere di invitarli perché comunque affrontano sempre i temi proposti in maniera dinamica e interessante che soddisfano tutti quelli che partecipano, quindi credo che non deluderanno nessuno neanche questa volta. Adesso io devo farvi presente che dopo di me ci sarà la presentazione da parte dell'ingegner Limoni che è nostro consigliere dell'ordine ma per la maggior parte di voi sarà interessata dall'intervento dell'avvocato Giulia Ferrari che vi darà alcune indicazioni in merito al test. Detto questo vi auguro una buona giornata, saluto anche i presenti che sono qui e quelli che ci seguono da casa che sono molto più numerosi. Buon inizio. Passo la parola all'ingegner Limoni. Buona giornata a tutti, io sarò brevissimo. Faccio anche io i ringraziamenti a chi ha collaborato per la realizzazione di questo evento, in particolar modo i relatori che hanno collaborato anche proprio nella fase realizzativa ponendo appunto il tema che oggi tratteremo. Questo convegno durerà dalle 14.30 alle 17.30. A seguire ci sarà un ulteriore convegno sempre in ambito giurisprudenziale che sarà dalle 17.30 alle 19.00. Il relatore sarà l'avvocato Luigi D'Agosto che è un avvocato del Foro di Verona che tratterà la fase conclusiva dell'incarico di amministratore di condominio. Quali obblighi e quali responsabilità alla luce della recente giurisprudenza. E ringrazio anche quest'ultimo relatore per la possibilità appunto di poter chiudere gli eventi della fiera del condominio al meglio. Adesso io cedo la parola all'avvocato Giulia Ferrari che vi darà delle informazioni per quanto riguarda il test che gli avvocati dovranno svolgere per poter da regolamento ricevere i crediti formativi. E ringrazio tutti gli altri ordini che hanno concesso i crediti formativi ai propri iscritti come ricordava il nostro Presidente l'ordine degli architetti, dei geometri, dei commercialisti e degli avvocati e dei periti. Bene, vi saluto e cedo la parola all'avvocato Giulia Ferrari. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie Andrea, grazie Matteo. Io sono l'avvocato Giulia Ferrari, sono il coordinatore esterno della Commissione Formazione Cultura e Convegni dell'Ordine degli Avvocati di Verona. Porto oggi i saluti della nostra Presidente Barbara Vissoli e di tutto il Consiglio. Ringrazio io invece a nome del Consiglio l'Ordine degli Ingegneri e la Edizioni Gambino per averci voluto coinvolgere in questo evento che ormai sta diventando un evento importante sulle tematiche legate al condominio a Verona e che ormai prosegue le sue numerose edizioni. La giornata di oggi è dedicata, come diceva Matteo, a approfondimenti in materia di diritto e per questo il nostro ordine è stato coinvolto e ancora per questo vi ringraziamo. Due note tecniche. La prima, gli eventi questo pomeriggio sono due. Il primo evento in cui trova i redatori il professor Dalla Massara e la dottoressa Silvia Romanò. È un evento a cui vengono attribuiti due crediti. Il secondo evento che succederà, il primo, penso e immagino con una breve pausa tra il primo e il secondo, prevede l'attribuzione di un credito. Per l'attribuzione dei crediti, per chi è in presenza, è necessaria la firma in entrata e in uscita con l'orario di entrata e uscita nei moduli che dovreste trovare presso la sala. Per chi invece ci segue online dovrà essere data risposta a delle domande che compariranno in sovraimpressione nello schermo durante la fruizione dei convegni. Pertanto invito i colleghi a prestare attenzione e a rispondere. Le domande rimarrando in sovraimpressione circa un minuto e poi scompariranno perché questo serve proprio a verificare l'effettiva presenza online. Quindi rinnovo i miei ringraziamenti ai relatori e agli organizzatori e vi auguro un buon pomeriggio e un buon proseguimento dei lavori. Non so se la palla passi direttamente a me. Io immagino che sì. È corretto, d'accordo. Allora io ringrazio molto naturalmente gli organizzatori, ringrazio Giulia, Giulia Ferrari e l'Ordine degli Avvocati per questa bella opportunità di dialogare tra professioni che naturalmente condivido in pieno e credo, diciamo così, a questo evento, proprio per come è strutturato. Dunque, io ho preparato diligentemente anche delle slide e chiedo, credo si dedica così alla regia, se le può condividere in modo tale che vi racconto un po' come, ecco, perfetto, grazie mille, come penso di intrattenervi per un'oretta, un'oretta scarsa. Poi naturalmente mi farebbe molto piacere che ci fossero delle domande, che ci fosse un dialogo in questo venerdì pomeriggio, spero in maniera non troppo noiosa. Non troppo noiosa perché naturalmente il tema è tecnico, tecnico-giuridico in questo senso, ma cercheremo di vedere un po' quali possono essere gli spunti più interessanti per chi in generale si occupa di problematiche legate al condominio in relazione alla vendita. Ecco il senso del titolo stesso che ho cercato di dare, cioè difetti del bene acquistato, le recenti novità nella prospettiva del condominio. Cioè io cerco in qualche modo di intrecciare un soggetto, il condominio, con un tema, con un oggetto, che è quello della vendita. Perché faccio questo? E con l'occasione chiedo sempre alla regia se già vuole passare alla seconda slide. Perché c'è in campo, eccolo qui, un testo normativo di grande interesse, faccio riferimento a questa normativa, a questa direttiva europea del 2019, la 771, che si accinge a trasformare abbastanza sensibilmente quello che è uno dei contratti naturalmente più praticati in generale e nello specifico anche in relazione al condominio, cioè appunto proprio la compravendita. Si compra e si vende, certamente da sempre si compra e si vende. Quindi mi chiedo, quando il compratore rinviene un difetto nel bene comprato, cosa può chiedere? Sostituzione, riparazione del bene? Il condominio stesso è un consumatore? Quali sono le regole? Questi, diciamo così, gli argomenti in campo. E in effetti un po' seguendo queste stesse domande, io dividerò il mio intervento in due parti, cioè uno più strettamente legato alle novità messe in campo da questa direttiva europea, lo ripeto, la 771 del 2019, e la seconda parte più collegata al soggetto che noi intendiamo prendere a riferimento, cioè il condominio stesso. Perché mi chiedo se il condominio sia un consumatore? Me lo chiedo in relazione proprio alla normativa presa a riferimento, perché la direttiva 771 del 2019 è una direttiva che è così intitolata, è relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento 2017-2394, la direttiva del 2009-22, che abroga la direttiva 44 del 1999, ossia in sostanza interviene dentro l'area, dentro il recinto, della vendita di beni mobili di consumo. Vendita di beni mobili di consumo. Quindi è la vendita che vede come soggetti da un lato il professionista, dall'altro lato il consumatore. Cioè questa normativa si applica solo intanto in quanto il venditore sia un professionista e il compratore sia un consumatore. è una normativa ben nota agli operatori, diciamo così, ai giuristi naturalmente, ma a coloro anche che in qualche modo gestiscono un condominio, mi immagino, perché è appunto una normativa che dopo la direttiva 44 del 1999 ha inciso fortemente sulle nostre vite di tutti i giorni, nel senso che ogni qualvolta possiamo affermare di essere dei compratori, consumatori, di fronte ad un venditore professionista, abbiamo degli strumenti specifici, peculiari, che dovrebbero favorire, avvantaggiare la nostra posizione di parte debole del contratto, appunto il consumatore, di fronte alla parte forte del contratto, il professionista. Allora, per fare il punto già anche solo sulla perimetrazione della chiacchierata, capire un po' meglio quali sono le novità poste dalla nuova direttiva, ripeto, la direttiva del 2019 che rinnova il quadro normativo che era stato inizialmente disegnato nel 1999 con la direttiva numero 44, ebbene, capire quali novità sono intervenute è molto rilevante in sé, ma è ancora più rilevante se noi oggi possiamo dire che il condominio, il condominio in quanto tale, sia un consumatore e quindi possa aggiovarsi di queste maggiori tutele quando compra rispetto a un venditore professionista. Allora, possiamo scorrere le slide successive, in modo particolare nella slide successiva. Io, per il momento, senza andare ancora ad analizzare questo problema che, come ho appena detto, vorrei trattare dopo, metto a fuoco però fin d'ora quello che è il dato di partenza rispetto al secondo problema che ho appena illustrato. Cioè, di per sé la direttiva, la 771 del 2019, questa nuova appunto con la quale stiamo facendo i conti, afferma all'articolo 2 che ai fini della presente direttiva si intende per consumatore qualsiasi persona fisica che in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva agisca per fini che non rientrano nel quadro dell'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona. Allora, si capisce già finora che stiamo appunto mettendo in capo i problemi che il dato testuale pone dei seri problemi perché la direttiva definisce il consumatore come persona fisica e quindi affermare che il condominio sia un consumatore significa superare diciamo così una difficoltà testuale laddove appunto l'articolo 2 della direttiva afferma che il soggetto consumatore debba essere persona non giuridica ma persona fisica. Quindi qui c'è un nodo legato alla soggettività del condominio che si tratterà di superare o come già si intende fin d'ora in qualche modo di forzare per riuscire appunto ad arrivare alla conclusione che il condominio possa essere un consumatore che quindi per quello che ho appena detto possa giovarsi di tutele specifiche di tutele ulteriori rispetto a quelle del compratore si usa dire non qualificato come pure nella slide successiva che lo stesso chiedo di poter scorrere eccola qui si vede che nel nostro codice del consumo quindi il testo che attualmente vige in Italia per quanto riguarda i rapporti tra protezionista e consumatore si afferma all'articolo 3 che ai fini del presente codice ove non diversamente previsto si intende per consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta quindi il quadro normativo ad oggi appunto mostra questa difficoltà ossia l'intendere consumatore è sempre una persona fisica non già una persona giuridica la soggettazione che in ogni caso non è de plano riconducibile a quella della persona fisica può il consumatore tuttavia raggiungere questo tipo di tutele questo è un po' il punto allora prima di arrivare allo specifico della profilazione soggettiva del condominio credo che però valga la pena un po' meglio comprendere cosa dice la direttiva 771 di che cosa si tratta e così chiedo appunto di scorrere anche la successiva slide che recita i rimedi a favore del consumatore e di nuovo richiama ecco qui un po' quello che è il cuore della direttiva 771 del 2019 ossia sostituzione e riparazione del bene e proprio su questo binomio sostituzione riparazione del bene occorre sviluppare qualche riflessione ora io non so se chi mi ascolta sia in prevalenza un giurista quindi un avvocato o un amministratore di condominio quindi non so quanto diciamo così si possa dare per scontato e quanto no di sicuro cerco di rappresentare il quadro con la massima chiarezza che mi riesca che mi sia possibile e quindi in breve dico dopo la direttiva che citavo prima la numero 44 del 1999 questo binomio sostituzione riparazione del bene è entrato direi prepotentemente nelle nostre vite cioè il recepimento di quella direttiva della direttiva del 1999 ha condotto all'interno del nostro ordinamento una novità ha portato all'interno del nostro ordinamento una novità novità rappresentata proprio dalla possibilità per il compratore di richiedere al venditore ripeto ancora una volta quando il compratore sia un consumatore e di fronte abbia un venditore professionista la sostituzione o riparazione del bene venduto prima ancora di poter chiedere la risoluzione del contratto o eventualmente la riduzione del prezzo cosa sto dicendo ripeto qui non so quanto possa dare per scontato quanto invece possa andar via veloce intendo dire che il nostro ordinamento se noi andiamo a guardare il codice civile e quindi l'ordinamento su cui diciamo così ci siamo formati e che prendiamo sempre a riferimento per il contratto di compravendita se noi guardiamo dicevo all'ordinamento civilistico generale quindi quello che si attaglia a rapporti paritetici si usa dire business to business B2B cioè tra professionisti tra soggetti non qualificati quando in sostanza non c'è di mezzo un consumatore bene quando ci riferiamo al codice civile appunto noi questo binomio non lo troviamo cioè non abbiamo un diritto consacrato a vantaggio del compratore di chiedere la sostituzione ovvero la riparazione del bene venduto su questo si potrebbe naturalmente discorrere molto a lungo il nostro codice civile prevede il nostro codice civile del 1942 prevede delle garanzie a vantaggio del compratore ripeto sto parlando di un compratore non qualificato quindi non indossa questo compratore la veste del consumatore ebbene questo compratore potrà richiedere al suo venditore le cosiddette antiche azioni si chiamano così edilizie ma non in omaggio al condominio o alle costruzioni ma perché è un nome storico riconducibile al diritto romano ossia invocare la redibitoria oppure la estimatoria ossia potrà chiedere di poter restituire il bene comprato ovvero di ottenere una riduzione del prezzo ma non potrà chiedere la sostituzione riparazione del bene acquistato questo discende dall'articolo 1490 in modo particolare 1490 e seguenti del codice civile perché quella garanzia appunto la garanzia per i vizi che il codice addossa al venditore è una garanzia che prevede che allorché si manifesti un vizio nel bene comprato quindi doveva trattarsi di un vizio occulto se io compro una certa quantità di merce compro un arredo del condominio compro un qualsiasi bene che possa andare da una pianta ornamentale a un ricambio dell'ascensore avanti di questo passo se so che lì si applica il codice civile e quindi escludo che scatti una tutela consumeristica legata appunto alla veste di consumatore so che lì io ho una tutela ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile so che io posso chiedere la restituzione del bene perché ho scoperto che la pianta acquistata ha una virosi perché ho scoperto che il pezzo di ricambio manifesta un difetto di funzionamento perché ho scoperto che l'oggetto di arredo una panchina del parco condominiale è in realtà malverniciata e avanti di questo passo se io posso fare una contestazione in ordine ad un difetto occulto del bene acquistato so dicevo di poter chiedere la restituzione so di poter chiedere una riduzione del prezzo ripeto ancora una volta redibitoria estimatoria ma non ho lo strumentario di cui ho appena detto cioè sostituzione riparazione del bene la sostituzione la riparazione del bene appartengono chiedo di poter scorrere lo slide ad una filosofia di fondo così l'ho chiamata in questa slide appunto che eccola qui che è differente da quella che anima il nostro codice civile di nuovo il discorso potrebbe protrarsi molto molto a lungo su questi temi che sono pratici ma anche se vogliamo molto teorici cioè l'idea che il venditore abbia su di sé una obbligazione di consegnare un bene che sia conforme al contratto ripeto venditore che abbia una obbligazione di consegnare un bene conforme al contratto questa idea è un'idea propria della normativa consumeristica ma non è propria del nostro codice civile il nostro codice civile parte da una considerazione potremmo dire legata all'oggetto parte dalla considerazione di una garanzia che il venditore è tenuto a prestare in relazione alle caratteristiche dell'oggetto ragiona nel senso che se il compratore rinviene un vizio occulto nel bene che ha comprato ripeto contesti la presenza di questo vizio per accedere alle tutele riconosciute in via di redibitoria te lo restituisco oppure estimatoria lo tengo ma esigo una riduzione del prezzo però senza che si apra la possibilità per appunto una sostituzione riparazione quindi è soltanto la svolta introdotta nel 1999 con la direttiva 44 e confermata come filosofia di fondo nella direttiva della quale stiamo parlando la 771 del 2019 è soltanto ripeto con questa svolta 1999 2019 che si consacra invece un diritto che potremmo dire è ispirato da per utilizzare un'espressione anglosassone da un right to cure cioè da un diritto di curare in qualche modo il contratto cioè di conservare il contratto tenere in piedi il contratto e ottenere in relazione al bene venduto una sorta di manutenzione sostituzione riparazione è lo strumentario classico che molti di noi cioè classico diventato classico ma in realtà appunto introdotto soltanto nel 1999 che noi sperimentiamo quando compriamo per esemplificare la lavatrice piuttosto che il telefonino piuttosto che un altro che l'aspirapolvere presso una catena commerciale portiamo a casa al bene scopriamo al difetto e quindi diciamo alla catena commerciale me lo sostituisci me lo ripari ma io voglio un bene conforme al contratto questo strumentario è ripeto uno strumentario legato all'ambito consumeristico la manutenzione del contratto la maintenance contrattuale cioè l'idea che valga la pena come addirittura opzione di politica legislativa mantenere in piedi il contratto e correggere le storture questa è una filosofia appunto piuttosto recente ripeto ancora una volta post 1999 e in qualche misura potremmo dire anche più legata ad un'idea larga larghissima se vogliamo di sostenibilità che in qualche modo ispira questo convegno di oggi e che è anche evocata dalla stessa si chiamano i considerando cioè una parte prodromica introduttiva della direttiva 771 del 2019 cioè l'idea che insomma in questo mondo attuale valga la pena di curare quel che c'è quindi anche un contratto che abbia previsto la consegna di un bene difettoso che non funziona che presenta dei vizi occulti piuttosto che procedere ad una caducazione del contratto precisazione caducazione del contratto naturalmente se io penso alla redibitoria cioè appunto quello strumento consentito dall'articolo 1490 per cui se c'è un vizio occulto io ti restituisco il bene e naturalmente tu mi restituisci il prezzo non così sarebbe per la verità se si decidesse di esperire invece l'estimatoria che vi ho detto è invece quell'altro strumento consentito dal 1490 che invece prevede che il bene venga trattenuto dal compratore e sia praticata una riduzione del prezzo io ho comperato un macchinario il macchinario ha una resa inferiore rispetto a quella che doveva avere ma io se scelgo di agire in estimatoria decido liberamente di tenermi il macchinario perché mi va bene anche se la resa sia inferiore e però pretendo una riduzione del prezzo viceversa redibitoria io decido che quel macchinario decisamente non è interessante per me e quindi ti restituisco il macchinario tu mi ridai il prezzo che io ho pagato allora questa filosofia di fondo come appunto l'abbiamo chiamata è una filosofia di fondo appunto che ispira la normativa consumeristica che dal 1999 o più precisamente dall'attuazione che l'Italia diede di quella direttiva del 1999 è diventata pane quotidiano per i giuristi naturalmente ma anche per gli operatori quindi mi immagino per i soggetti che in qualche modo collegati alla vita del condominio abbiano fatto compravendita abbiano comprato qualcosa questa prospettiva è una prospettiva che è entrata dapprima all'interno del nostro codice civile nel senso che il nostro codice civile ha originariamente novellato la disciplina della vendita introducendo degli articoli specificamente 1519 da bis anonies in cui ha riportato i contenuti della direttiva e poi quegli stessi contenuti sono stati trapiantati dal codice civile in un codice che abbiamo evocato poc'anzi che prende il nome proprio di codice del consumo e in modo particolare gli articoli da andare a guardare sono quelli del 129 fino al 135 del codice del consumo dove il cuore ancora una volta lo dico sta in ciò nella possibilità di chiedere da parte del compratore e consumatore questa sostituzione questa riparazione del bene appunto la lavatrice che non funziona me la sostituisci lo strumento tecnico che non funziona me lo ripari prima ancora di accedere agli strumenti tradizionali che appunto ho ricordato sia la redibitoria l'estimatoria allora questa direttiva 771 mantiene questo impianto tradizionale la domanda che però diventa più urgente farsi è quella della slide successiva ossia cosa resta delle tradizionali garanzie del codice civile cioè la domanda che oggi la direttiva 771 pone in campo è soprattutto la seguente è ancora possibile per un compratore consumatore immaginare di accedere alle tutele del codice civile superando il fatto di essere consumatore cioè cerco di spiegarmi meglio le tutele del codice civile quelle che abbiamo descritto in relazione all'articolo 1490 cioè la redibitoria e l'estimatoria sono tutele di carattere generale che abbiamo detto valgono quando i soggetti sono non qualificati B2B business to business nel senso che non entra in scena la figura del consumatore ma queste tutele sono comunque disponibili al consumatore che decida di attingere ad esse cioè di invocarle di esperirle o sono totalmente da escludersi quando entra in campo un consumatore compratore la domanda è estremamente importante per un pratico per colui che appunto abbia realizzato immaginiamo un acquisto a vantaggio del condominio e poi ci domanderemo come abbiamo detto se il condominio in sé sia un consumatore la domanda è estremamente importante perché perché la normativa che in materia di consumo che vige fino ad oggi la normativa che quindi ho detto essere quella del 1999 la numero 44 da prima attuata all'interno del codice civile 1519 bis fino a nonies e poi 129 fino al 135 del codice del consumo aveva una clausola finale aveva un articolo finale proprio appunto al 135 che per come era stato in parte interpretato ma qui si dovrebbe aprire un lungo dibattito in ordine alle differenti interpretazioni che erano state date comunque diciamo secondo una certa linea del dibattito quell'articolo 135 aveva in sostanza detto questo esiste una normativa in materia consumeristica ma non è escluso al consumatore al compratore consumatore in ogni caso di poter invocare il codice civile in quanto normativa di carattere generale cioè in sostanza non aveva escluso l'applicabilità del codice civile per lo meno quando il compratore consumatore avesse ritenuto di prima ho detto dismettere la casacca di consumatore facendo valere i suoi diritti come semplice compratore in altri termini essendo il codice civile normativa di carattere generale la normativa consumeristica veniva diciamo così accantonata e il compratore poteva pur essendo consumatore ma non invocando questa veste poteva chiedere direttamente ciò che il codice civile attribuisce a qualunque a qualunque anche non qualificato compratore a chi non a chi non conosce le diciamo così le tecnicalità del codice civile la domanda potrebbe sembrare quasi superflua perché si potrebbe dire se il codice del consumo fino ad ora abbiamo lasciato intendere che dia delle tutele più avanzate al compratore consumatore perché mai il consumatore dovrebbe essere interessato appunto di smettere la giacca del consumatore per dire io sono un compratore to cure semplicemente e quindi guardo al codice civile per invocarne i rimedi potrebbe sembrare strano ma invece chiedo la slide successiva la domanda è estremamente fondata quantomeno si potrebbe anche qui allargare moltissimo il discorso ma la domanda merita di essere posta quantomeno perché il compratore che si è interessato a dismettere appunto la giacca del consumatore e che agisca come puro compratore avrebbe parecchi vantaggi a poter contestare che il vizio nel bene venduto rappresenti integri la figura del aliud pro alio adesso devo pur brevemente raccontare un po' meglio di che cosa sto parlando anche qui cercando di essere chiaro anche per coloro che non sono giuristi ossia dire che quando il compratore ragiona a tenore di codice civile se invoca il 1490 di cui ho parlato prima cioè quella norma che stabilisce le garanzie a vantaggio del compratore avrà la redibitoria e l'estimatoria che come ho detto conducono alla restituzione del bene comprato per una riduzione del prezzo le quali sono sottoposte a dei termini a dei termini per poter agire che sono particolarmente stringenti sono i termini fissati dall'articolo 1495 sono dei termini di otto giorni di decadenza dalla scoperta del vizio per farne denuncia al venditore e di un anno di prescrizione dalla consegna del bene per agire sottolineo soprattutto il secondo termine quello di prescrizione il compratore ha un anno ha un anno dalla consegna del bene per agire dopodiché il suo diritto sarà prescritto e non potrà più agire in redibitoria in estimatoria si chiude per lui il gioco la normativa consumeristica quindi la normativa consumeristica per come è disegnata già nel 1999 e per come è ridisegnata anche nel 2019 concede un termine per agire che di regola è di due anni due anni quindi a maggior ragione si potrebbe dire allora la tutela per il consumatore è più avanzata perché ha più tempo per agire non deve affrettarsi ad agire nell'arco di un anno ma ha il doppio di tempo due anni per poter agire nei confronti del suo venditore però non il rilevante dettaglio non stiamo considerando ancora la figura dell'Aliud Pro Alio ossia una figura che il codice civile per come interpretato dalla giurisprudenza dischiude apre al compratore ossia una figura che poggia non già sul 1490 quella norma che appunto ho invocato più volte e che contempla le garanzie per i vizi cui si applicano i termini del 1495 questo anno secco di prescrizione prima di perdere il diritto ma dicevo l'Aliud Pro Alio è una regola è un complesso di regole è una figura elaborata sulla base del codice civile lavorando sull'articolo 1453 che chiunque abbia un po' di dimestichezza con il codice civile conosce ovvero sia quella norma che prevede in materia di contratti a prestazioni corrispettive contratti sinallagmatici prevede la possibilità per il colui che invochi l'inadempimento di controparte di chiedere l'adempimento contrattuale oppure la risoluzione del contratto cioè il 1453 è quella norma generale di contratti a prestazioni corrispettive quindi non peculiare del contratto di compravendita ma più ampiamente una norma che è invocabile ogni qualvolta si sia a cospetto di un contratto a prestazioni corrispettive che consente alla parte contrattuale che invochi l'altrui in adempimento di chiedere l'adempimento contrattuale oppure ho detto la risoluzione del contratto in che termine nel termine ordinario di prescrizione previsto per la responsabilità contrattuale che è quello decennale allora adesso forse il quadro è un po' più chiaro cioè se io sono un compratore non qualificato non consumatore ho sì le tutele specifiche del 1490 la redibitoria e le stimatorie che presentano alcune peculiarità su cui adesso non voglio troppo soffermarmi e che fondamentalmente lasciano spazio ho detto per la restituzione del bene per la riduzione del prezzo nei termini stringentissimi dell'articolo 1495 quindi un anno di prescrizione ma io ho la possibilità di invocare l'aliud provalio se posso dire che sia invocabile l'articolo 1453 l'articolo 1453 è articolo sulla risoluzione contrattuale è articolo che vale per tutti i contratti e prestazioni corrispettive è articolo che consente di chiedere l'adempimento del contratto oppure la risoluzione del contratto è articolo cui si applica il termine di prescrizione decennale termine di prescrizione decennale che è quello che in generale si applica per la responsabilità contrattuale quando io posso invocare l'aliud provalio quando il difetto di cui stiamo discutendo quindi il difetto del bene acquistato la lavatrice che non funziona e la panchina che serve all'arredo del giardino condominiale la tubazione che serve per una sostituzione le piante ornamentali dell'ingresso quel che le finestre quello che voi volete insomma il bene si presenta viziato ma in misura tale in misura tale per cui si possa affermare che quello che è stato consegnato è radicalmente difforme rispetto a quello che si sarebbe dovuto consegnare cioè l'aliud provalio è come dice l'espressione stessa la consegna di un qualcosa che è radicalmente altro rispetto a quello che si sarebbe dovuto dare tu avresti dovuto darmi un oggetto d'oro invece un oggetto di ottone appariva forse nella stessa maniera ma è radicalmente diverso tu avresti dovuto darmi un materiale da costruzione con certe caratteristiche che sono essenziali per la tenuta statica dell'edificio ma me l'hai dato con caratteristiche radicalmente diverse tu mi hai dato una pianta che avrebbe dovuto avere certe caratteristiche una pianta ornamentale che avrebbe dovuto avere certe caratteristiche di resistenza al freddo di un certo tipo invece mi hai dato una pianta che magari presenta una foglia simile ma è decisamente più delicata e quindi morirà questi inverni allora l'aliudisprudenza ha sempre ragionato in questi termini è aliud quel bene che appartiene si usa dire ad un genere merceologico radicalmente diverso l'adempimento di quel bene rende la ragione economico la funzione economico sociale la ragione concreta del contratto decisamente il fondamento contrattuale la la causa in concreto del contratto qualcosa di radicalmente differente abbiamo modificato nella sua essenza il senso stesso del contratto allora se così è posso invocare l'aliud provale cioè in sostanza il ragionamento è il seguente la tutela del 1490 è una tutela specifica per il compratore è una tutela che rientra nel tipo contratto di compravendita ma non può escludersi che il compratore in quanto parte di un contratto a prestazioni corrispettive attinga da una regola potremmo dire così di macrotipo contratto a prestazioni corrispettive per invocare il 1453 che di fronte ad un difetto così grave avrà di fronte a sé un arco di prescrizione un tempo di prescrizione che è decisamente più vantaggioso perché di 10 anni al confronto di un anno che è il tempo il termine che abbiamo visto previsto dall'articolo 1495 allora di fronte a tutte queste domande diventa fondamentale appunto tentare di dare una risposta a quella domanda cosa resta dell'alutrovalio più in generale potremmo dire se adesso l'alutrovalio ci ha mostrato diciamo così una via particolarmente conveniente per il compratore più in generale dobbiamo domandarci appunto se la normativa consumeristica spazza via tutto quello che è di codice civile ogni qual volta il soggetto compratore sia qualificabile come consumatore o lasci una certa linea interpretativa aver lasciato aperta l'opzione dicevo di dismettere la veste del consumatore e di agire come un qualunque compratore in altri termini di non applicare il codice del consumo ma di applicare il codice civile allora è qui che la direttiva 771 diventa particolarmente interessante perché la direttiva 771 dice qualche cosa che la direttiva del 1999 non diceva cioè la direttiva 771 del 2019 dice con chiarezza all'articolo 4 qual è il livello di armonizzazione che mira a realizzare lo leggo salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva gli stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso gli stati membri lo ripeto non mantengono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite nella presente direttiva incluse disposizioni è proprio il caso che abbiamo appena visto che possano ritenersi che possano risultare più severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso cioè questo articolo 4 sul livello di armonizzazione dice qualche cosa lo ripeto che nel 1999 non era stato detto ossia che la direttiva è mirante ad un massimo livello di armonizzazione in prospettiva europea cioè la direttiva europea stabilisce quali sono i diritti non c'è possibilità di andare a guardare all'interno dei singoli ordinamenti nazionali se gli ordinamenti nazionali prevedono diritti più favorevoli per il compratore consumatore che quindi vengano preferiti rispetto all'ordinamento di matrice europea quindi Iuris a che punto siamo la direttiva 771 è esattamente in queste settimane in questi giorni in fase di attuazione cioè in sostanza la direttiva è in sé vigente l'ordinamento italiano è in fase di recepimento recepimento che appunto avverrà a brevissimo perché entro la fine dell'anno dovrà essere appunto attuata la direttiva come se la caverà il legislatore italiano il legislatore italiano dovrà in qualche modo prendere posizione rispetto a quello che la direttiva impone cioè un livello di armonizzazione massimo non non più possibilità di chicane questo perlomeno è il mio pensiero tali per cui si possa dire che laddove la normativa nazionale sia di maggior favore sia conservata l'applicabilità del codice civile naturalmente stiamo diciamo così lavorando ancora all'oscuro di quale sarà il testo predisposto dall'Italia conosciamo per il momento l'attuazione spagnola conosciamo l'attuazione austriaca conosciamo quella francese stiamo aspettando appunto quella italiana quello che appunto appare chiaro è che quel discorso si fa ancora più tecnico si sarebbero potuti percorrere degli itinerari che consentissero di tenere in vita normative nazionali di maggior favore per il compratore che scegliesse di utilizzare strumenti già presenti nel nostro ordinamento nazionale in modo particolare sulla base dell'articolo 3 7 della stessa direttiva non ve lo leggo perché il discorso si fa estremamente anche esegetico cioè di analisi del testo però quello che appare oggi chiaro è che per percorrere quelle vie ripeto che avrebbero potuto consentire di mantenere in vita uno strumentario nazionale laddove più favorevole per il consumatore sarebbe servita una delega legislativa ad hoc che non è stata data una delega al governo e in assenza di delega non si potrà obiettivamente lavorare adesso in queste settimane in questi mesi per riuscire a invocare il 3.7 della direttiva così appunto ottenendo di mantenere a galla diciamo così segmenti normativi nazionali differenti da quello che prevede la normativa europea cioè in sostanza l'articolo 4 livello dell'emanizzazione massima è a mio giudizio tranchant non lascia spazi differenti dovrebbe cancellare portare via con sé per esempio l'aliud pro alio che abbiamo appena descritto e più ampiamente assieme all'aliud pro alio il resto dello strumentario di codice civile che in forza dell'articolo 135 in questi anni dalla 99 in poi si è ritenuto ripeto per lo più si è ritenuto che comunque potessero essere invocati dal compratore consumatore 1490 e ho evitato di dire per non mettere troppa carne al fuoco ma gli avvocati mi seguiranno chi tra il pubblico controlla un po' il quadro della venta mi seguirà sicuramente anche il 1497 cioè quell'altra norma che parla di qualità essenziali o promesse tutto questo sarebbe oggetto di un colpo diciamo così di scopa da parte dell'ordinamento da parte del legislatore europeo che a questo punto stabilisce le nuove regole del gioco e dice questa è la direttiva questa va attuata e questo è il livello di criminalizzazione massimo europeo non ci sono deroghe sul piano nazionale quello che vi ho raccontato attiene al cuore delle tutele a vantaggio del compratore consumatore esistono naturalmente poi altri temi laterali su cui non ho portato l'attenzione che vorrebbero altri problemi specifici uno di questi è il tema del risarcimento del danno lo liquido in poche battute per dire che il risarcimento del danno non è mai stato disciplinato dal legislatore europeo non lo era nel 99 e non lo è nella direttiva del 2019 quindi il risarcimento del danno aspettante al compratore al compratore consumatore quindi al compratore consumatore che abbia ricevuto tornando al nostro esempio le piante ornamentali che siano fallate piuttosto che le tubazioni che appunto non presentino certe caratteristiche piuttosto che i materiali da costruzione con una difettosità in termini di qualità dei materiali avanti di questo passo ebbene il compratore consumatore che decida di invocare il risarcimento del danno potrà continuare a farlo poteva farlo nel vigore della disciplina del 99 lo farà anche in quella del 2019 perché questo resta fuori dal perimetro disciplinato al legislatore europeo quindi lì continuano a valere le norme nazionali che consentono il risarcimento del danno io di più su questo tema cioè sulle novità in materia di vendita vendita nazionale vendita europea relazione tra la direttiva e il codice civile livelli di tutela maggiori o minori non direi altro rimettendomi semmai a domande curiosità approfondimenti quello che invece in questa seconda e più breve parte vorrei trattare è come vi avevo detto all'inizio il tema del rappresentato diciamo così dalla veste del condominio e così chiedo di poter andare avanti di una slide cioè è proprio la domanda che c'eravamo posti prima vedendo anche quali sono le premesse ossia se il condominio sia un consumatore cioè al di là del fatto che naturalmente il condomino singolo sarà un consumatore ma il condominio in sé nella sua soggettività è un consumatore e quindi più praticamente l'amministratore di condominio in quanto rappresentante del condominio è un consumatore rappresenta un consumatore rappresenta un condominio consumatore prima rapidamente abbiamo visto dove può essere la pietra d'inciampo di questo ragionamento cioè nelle definizioni stesse di consumatore laddove si dice sempre che il consumatore è una persona fisica e il condominio chiaramente non è una persona fisica lo dicevamo nelle slide viste sopra facendo riferimento all'articolo 2 della direttiva 771 del 2019 e lo dicevamo anche guardando al codice del consumo oggi vigente guardando in modo particolare l'articolo 3 del codice del consumo sempre consumatore persona fisica allora questo tema come è stato affrontato e risolto o non risolto in questi anni allora per fare un breve excursus su questo chiedo di poter andare avanti di una slide e prendo le mosse da una pronuncia della corte di cassazione del 2015 in modo particolare qui stiamo osservando la 10679 laddove si è detto che al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti si applica la normativa a tutela del consumatore atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale cioè la corte di cassazione la corte di cassazione italiana nel 2015 e più ampiamente negli ultimi anni ha tenuto una posizione di apertura di coraggio nel senso di dire che il condominio è consumatore perché pur non negando che il consumatore che il condominio sia ovviamente non una persona fisica pur prendendo atto che il consumatore che il condominio sia qualcosa diverso naturalmente da una persona fisica dice è entro di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti e atteso che l'amministratore agisce quale mandatario cioè fa leva sul fatto che ci sia un mandato dei condomini nei confronti dell'amministratore di condominio con rappresentanza quindi dei vari condomini quali essendo loro consumatori trasferiscono diciamo così la qualifica di consumatore anche al loro rappresentante cioè all'amministratore di condominio è questa una posizione sostenibile allora il dubbio è venuto possiamo scorrere di una slide è venuto a molti quantomeno è venuto a un tribunale di milano primo novembre 2019 in una controversia che veniva che vedeva contrapposto un certo condominio con una spa e il tribunale ha sollevato di fronte alla corte di giustizia europea una questione pregiudiziale relativa alla applicabilità della direttiva del 1993 la numero 13 sulle clausole abusive per un contratto di fornitura di energia elettrica e gas stipulato con una società dall'amministratore di un condominio la direttiva considera consumatore solo le persone fisiche ma la corte di cassazione estende al condominio la disciplina tutela del consumatore quid iuris cioè in sostanza il tribunale di milano ha sollevato la questione davanti alla corte di giustizia europea per comprendere appunto se il ragionamento della corte di cassazione tiene o meno può essere appunto validato o meno in sede europea perché nel caso che veniva sottoposto al tribunale di milano il contratto avrebbe intesi presentato delle clausole vessatorie clausole vessatorie abusive quindi stigmatizzate dalla direttiva del 1993 in questo caso sarebbe venuta in campo una direttiva in materia appunto di rapporti business to consumer quindi tra professionista e consumatore quelle clausole sarebbero state appunto dichiarate abusive sul presupposto che naturalmente il condominio potesse ritenersi consumatore ebbene posto il dubbio possiamo cambiare slide posto il dubbio si pronuncia la corte di giustizia europea la quale decide non decide vediamo cosa dice la corte di giustizia interviene il 2 aprile del 2020 quindi è una faccenda recente secondo la formulazione dell'articolo 2 lettera b della direttiva del 1993 ripeto quello sulle clausole vessatorie la nozione di consumatore deve intendersi riferita a qualsiasi persona fisica che nei contratti oggetto della presente direttiva agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale da tale disposizione deriva che affinché una persona possa rientrare in questa nozione devono essere soddisfatte due condizioni cumulative vale a dire che si tratti di persona fisica e che quest'ultima svolga un'attività a fini non professionali ne deriva che un condominio qual è il ricorrente nel procedimento principale non soddisfa la prima delle condizioni e pertanto non rientra nella nozione di consumatore ai sensi di tale disposizione così fino a questo punto ma scorriamo la slide ma ciò posto ciò posto come a dire fin qua ho letto testualmente la normativa e non posso che prendere atto del fatto che il condominio non è persona fisica ma ciò posto resta da stabilire dice la Corte di Giustizia europea se una giurisprudenza nazionale come quella della Corte Suprema di Cassazione Italia che interpreta la normativa di recentimento della direttiva del 93 nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene sia applicabile anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano contraddica la razza del sistema di tutela dei consumatori in seno all'Unione cioè dice questo dice testualmente la direttiva ma dobbiamo fare un passo in più dobbiamo andare a vedere se questa interpretazione nazionale contraddice la razza generale del sistema di tutela dei consumatori in seno all'Unione europea e scorriamo ancora la slide dice poi secondo il considerando 12 della direttiva quest'ultima procede solo ad un'armonizzazione vedete la terminologia di prima parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive certo perché quella del 93 era una direttiva di armonizzazione minima lasciando agli stati membri la possibilità di garantire nel rispetto del trattato un più elevato livello di protezione di consumatore ne consegue che ribaltando quindi l'impressione che vi era venuta all'inizio della lettura del testo della sentenza anche se una persona giuridica quale il condominio del diritto italiano non rientra la nozione di consumatore quello che abbiamo detto prima non è un consumatore perché è una persona fisica gli stati membri possono applicare disposizioni in Italia direttiva a settori che esuono dall'ambito di applicazione della stessa a condizione che una si fatta interpretazione da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati in conclusione scorriamo ancora la slide la corte di giustizia europea dice è in altre parole compatibile con il diritto dell'unione europea un orientamento interpretativo della giustizia nazionale che includa nell'ambito di operatività delle disposizioni interne di ricevimento della direttiva 93 anche i contratti stipulati da un professionista con un condominio nonostante quest'ultimo soggetto non sia qualificabile come consumatore ai sensi della direttiva del 93 quindi la corte di giustizia europea alla fine sostanzialmente dice se il livello di tutela quindi fa appello alla razza generale della disciplina se il livello di tutela è più elevato fate pure in Italia ciò che ritenete cioè in sostanza se la vostra interpretazione è nel senso di allargare la nozione di consumatore anche ad un soggetto che non è persona fisica sia il condominio e specificamente quindi all'amministratore di condominio fate pure perché questo non è in contrasto con non è in contrasto con l'ordinamento allora fin qui fin qui la normativa la il testo della sentenza della corte di giustizia europea scorriamo ancora una slide e vediamo come il tribunale di Milano del novembre a questo punto del 2020 siamo al 26 novembre del 2020 rilavora ancora una volta diciamo così questo argomento e prende posizione a valle del sentenza della corte di giustizia europea il tribunale di Milano sviluppa ancora in maniera un po' differente questa impostazione e dice ritenendo opportuno esaminare la questione della qualificabilità del condominio come consumatore non nella prospettiva sfuggente e certo l'abbiamo capito che è sfuggente della teoria del soggetto cioè non sappiamo esattamente appunto come classificare il condominio ma in quella del rapporto giuridico il tribunale di Milano afferma che è divenuto impossibile mantenere inalterato l'orientamento tradizionale della suprema corte cioè quella appunto che abbiamo visto prima molto di apertura molto concessiva secondo il quale al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio cliente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta a quella dei suoi partecipanti si applica la disciplina di tutela del consumatore agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomi i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali professionali altrimenti si potrebbe aggiungere di tenere il consumatore anche un condominio interamente adibito allo svolgimento di attività commerciali e professionali scorriamo la slide siamo alla penultima sicché l'esito è il seguente secondo il tribunale quello di Milano deve considerarsi consumatore solo quel condominio che risulti composto da unità immobiliari almeno prevalentemente appartenenti a persone fisiche e da queste ultime utilizzate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta quindi l'ultimissima linea quella indicata al tribunale di Milano avendo a monte un orientamento molto di apertura della corte di Cassazione abbiamo visto il dubbio del tribunale di Milano che fa rimbalzare la questione di fronte alla corte di giustizia europea la pronuncia della corte di giustizia europea ebbene a valuto quest'iter l'orientamento del tribunale di Milano è quello che possiamo sintetizzare nel senso di un criterio di prevalenza ossia non possiamo dire in assoluto che il condominio sia consumatore non possiamo però negarlo e questo è il pezzo che deriva diciamo così dalla pronuncia della corte europea non possiamo negarlo perché questo risponderebbe ad una razza di maggior tutela del consumatore ma dobbiamo vedere caso per caso se il condominio veramente possa ritenersi un consumatore ovvero sia dobbiamo andare a vedere che il condominio non sia per esempio composto unicamente di professionisti studi legali tax legal e quant'altro in modo tale che la figura del consumatore davvero non possa ravvisarsi se con questo approccio casistico noi riteniamo che appunto il condominio sia consumatore non lo si può negare questo non va in contrasto con la normativa europea se invece non lo si può ritenere quel condominio non sarà un consumatore la questione non è neanche adesso tuttavia pacifica perché siamo all'ultimissima slide la posizione per esempio di quella ultimissima slide grazie se mi scorrete l'ultima eccola qui la posizione assunta dall'ABF quindi l'arbitro bancario finanziario è consapevolmente discosta da quella a monte della corte di cassazione ma anche differenziata rispetto al tribunale di Milano stesso perché l'ABF tiene ferma la linea questa è una pronuncia ABF del 2020 ferma la linea per cui sarebbe da escludersi a priori la possibilità di considerare il condominio consumatore anche nelle ipotesi in cui i comproprietari siano tutte persone fisiche che utilizzano unità abitative per fini non professionali quindi l'ABF è molto rigida su questo e in mancanza di interventi legislativi ad hoc come a dire se volete intervenite si ritiene in sostanza di escludere riassumo in breve di escludere che il condominio possa essere considerato consumatore non è un consumatore naturalmente l'ABF è un organo con un suo statuto molto peculiare ma questo per dire di come il panorama sia orientato in un certo senso ma non totalmente stabilizzato allora per fare sintesi dico il tema della vendita tema centrale sicuramente tema che è stato inciso profondamente a partire dal 1999 dalla direttiva numero 44 ridisciplinato dalla direttiva 771 pone già in sé molti problemi li abbiamo visti prima il problema le novità che porta la normativa consumeristica sono novità collegate principalmente allo strumentario messo a disposizione del compratore e consumatore nel senso di poter chiedere la sostituzione e riparazione il tema che si pone dopo la direttiva del 2019 è se il livello di armonizzazione stabilito dalla direttiva sia un livello di armonizzazione massimo e quindi non derogabile in alcun modo la mia risposta lì è sì secondo me la direttiva del 2019 non sarà più aggirabile come io stesso peraltro avevo sostenuto che si potesse fare nel vigore del 135 del codice del consumo per far rivivere strumenti obiettivamente più favorevoli al compratore come abbiamo visto essere l'Aliud Pro Alium quindi spariranno dalla scena figure importanti storicamente consolidate tutti questi problemi tutti questi interrogativi si rendono ancora più interessanti avvincenti nella misura in cui si reputi che riguardano non solo e non tanto i singoli consumatori quindi i singoli condomini ma direttamente il condominio nella sua veste di consumatore cosicché abbiamo cercato di esemplificare allorché a comprare sia non solo e non tanto il singolo condomino ma a comprare le piante ornamentali la panchina d'arredo i materiali da costruzione la tubazione che va sostituita qualora tutto questo sia comprato dal amministratore di condominio quindi dal condominio ebbene tutto questo ci chiediamo può essere considerato ragione sufficiente per l'applicazione della disciplina consumeristica se sì con tutte le conseguenze che abbiamo visto la linea di orientamento l'ultimissima che vi ho illustrato quella del tribunale di Milano è nel senso di analizzare caso per caso di vedere cioè se il condominio sia composto in prevalenza da consumatori io sono arrivato al termine di questa carrellata che gioco forza era ampia e complessa ho tentato di non dare tutto per scontato perché appunto so di parlare non soltanto a giuristi ma anche a non giuristi ma naturalmente resto a totale disposizione vostra per domande e chiarimenti meglio ora o eventualmente se sarà utile necessario anche via email vi ho dato due email che sono attive entrambe sono una con dominio univr l'altro con dominio Roma 3 ma sono attive tutte e due sono in fase di passaggio proprio con il primo di novembre da Università di Verona a Roma 3 da dove vi sto parlando ragione per cui non sono con voi però ripeto anche via mail sono a disposizione con entrambi gli indirizzi vi ringrazio per l'attenzione professore scusi professore sì niente io sono Alessandro Pisano sono un ingegnere sono coordinatore della commissione ingegneri per il condominio qua a Verona e ho seguito con grande attenzione il suo intervento volevo solo chiedere una cosa nello specifico le sezioni unite della Cassazione con la sentenza 10.934 del 2019 e si sono pronunciate sulla questione della personalità giuridica del condominio e hanno in qualche maniera concluso che il condominio non è una persona giuridica e i singoli condomini possono tutelare in giudizio i diritti relativi alle parti comuni ora a fronte di quanto enunciato dalla Cassazione in sezioni unite non si è in qualche maniera avvallato l'ipotesi che il singolo condomino possa agire in qualità di consumatore nei confronti dell'eventuale fornitore in un'ottica comunque di consumatore ecco mi premeva chiederle questo perché lei ha citato il tribunale di Milano ma vabbè io non sono non sono un avvocato ma credo che comunque la Cassazione sezioni unite in qualche maniera abbia una una voce in proposito ecco tutto qua posso se desidera le ricito il diciamo la sentenza era la numero 10.934 del 2019 grazie certo certo mi sono perso un pezzetto ma ho capito tutto il senso della sua domanda è chiarissima e il quadro complessivo è indubbiamente articolato e complesso non è tuttavia in contrasto con quello che abbiamo visto nel senso che sicuramente no sì esatto esatto non non crea discrasie semmai farà venire qualche mal di testa in più interpretativo nel senso che indubbiamente il fatto di riconoscere personalità giuridiche di ricondurre tutto in capo al condominio avrebbe semplificato il quadro questo non è è esattamente quello che lei molto opportunamente fa notare il fatto di dire come va di moda adesso peraltro che sostanzialmente si decide caso per caso e il tribunale di Milano dice chiaramente questo non rende più limpido indubbiamente l'impianto normativo si risposta sul piano diciamo così dei soggetti un ragionamento che la Corte di Giustizia europea non avrebbe escluso di per sé di poter tenere sul piano del condominio quindi direi che la sua osservazione calza perfettamente per completare il quadro e per portare l'attenzione sulla soggettività del del condominio siamo indubbiamente diciamo così siamo diventati anche noi case law e quindi dobbiamo guardare condominia per condominia stendo attenti a vedere la prevalenza di persone fisiche che possono essere considerate consumatori ovvero la presenza come dicevo prima di studi magari studi professionali che invece rendono quel condominio il tribunale di Milano magari immagina il condominio di Piazza Duomo in cui sono tutti studi legali e lì dice no tu non sei consumatore grazie grazie mille ringrazio anzi per la puntualizzazione grazie professore abbiamo una domanda anche da chi è collegato la domanda partiva proprio all'inizio del suo intervento io cerco di contestualizzarla poi al massimo se non mi sono accorto non credo averla vista no non si preoccupi la raccogliamo noi no no non riesci a vederla non è un problema provo a ricontestualizzarla perché ripeto essendo arrivata alle 15.07 eravamo ancora proprio all'inizio ma in due parole per contratto si intende l'atto notarile di vendita io qua vorrei capire e lo chiedo perfetto perfetto infatti era quello io vorrei chiedere a chi ha posto la domanda se eventualmente ce la può integrare perché io penso che mi facesse riferimento parlo del corsista al contratto che si stipula nel momento in cui si è un acquisto di un bene non l'atto notarile di vendita dell'appartamento o del assolutamente perché tutto quello di cui abbiamo discusso è l'acquisto di beni mobili mobili quindi non immobili mobili di consumo quindi anche per gli esempi che io vi ho portato è tutto quello che tu puoi acquistare ho detto dalla pianta ornamentale alla panchina alla tubazione al materiale alla costruzione al pezzo di ricambio tutto quello che in astratto possa essere oggetto di questa questione che mi sembrava potesse interessarvi appunto perché è anche molto recente ossia collegata all'applicazione di una disciplina consumeristica che è rivolta unicamente ai beni mobili non immobili il bene immobile sarebbe il condomini in sé ma naturalmente lì la prospettiva sarebbe radicalmente diversa non c'entrerebbe niente il consumatore e sarebbe un tema di vendita dell'immobile a questo punto però dove l'amministratore diciamo così sì può entrarci ma in un ruolo molto diverso nel senso che non comparirebbe come compratore o venditore mentre noi ci siamo posti tutti i problemi nell'ottica in cui chi compra e chi vende sia o il singolo o l'amministratore e ciascuno nella veste che abbiamo cercato di identificare consumatore o no questa era la mia prospettiva no esatto professore infatti il corsista ha specificato sì per fare un riferimento appunto a beni immobili io ne approfitto se ci fosse qualche altra domanda lo dico a chi è collegato naturalmente da studio da casa la può naturalmente fare nella chat loro ne hanno facoltà e noi la riformuleremo ai docenti vi ricordo soprattutto per gli avvocati collegati che durante lo svolgimento del webinar verranno poi postati dei sondaggi per verificare l'effettiva partecipazione e quindi spetterà poi a loro rispondere alle domande solo questo professore le ritorno la parola dovesse arrivare qualche altra domanda naturalmente gliela riformuleremo va bene io credo di non naturalmente resto a disposizione non intenderei aggiungere altro perlomeno non sento in questo momento necessità di aggiungere altro posso aggiungere ma insomma non è come dire è una segnalazione quasi per passare la palla direttamente alla dottoressa all'avvocato Silvia Romano che di questi temi sia sottoscritto sia la dottoressa sia per la verità un ben più ampio gruppo di lavoro ci siamo occupati in un volume di recente pubblicazione che è per la casa editrice Pacini e che entra in una collana che si chiama il sistema dei rimedi e che riguarda la vendita di beni mobili quindi solo per dire che come gruppo di studio come gruppo di lavoro di questi temi ci siamo occupati in tante persone in tanti studiosi e che le sfaccettature che astrattamente e quindi in quel caso in quel volume appunto si possono affrontare sono tante e che potrebbero estendersi ad altri spinosissimi problemi quello che ho cercato di evidenziare fin qui è una prospettiva diciamo così più tagliata proprio sul profilo del condominio come soggetto messo in relazione con la vendita detto ciò io vi saluterei e resterei in ascolto perlomeno per per un po' di tempo tutto quello che mi separa dal treno con il quale ritornerò a Verona e quindi mi riavvicinerò a voi quindi vi ringrazierei e vi saluterei forse passo io direttamente la parola a Silvia Romano se ben intendo perfetto grazie ancora mi scusi mi scusi professore sul filo di lana è arrivata la domanda va bene ok una ristrutturazione rientra ad esempio rifacimento di facciata esterna ma questa è la miglior domanda per passare la parola a Silvia Romano che tratterà se non ricordo male se non ha un lapsus di un contratto non già di compravendita dove la prestazione è quella di un dare qualche cosa ma parla del facere quindi di un'attività parla di contratto d'appalto giusto esattamente e quindi di un'attività che è quella di un facere non già quella di consegnare di fornire a un bene non è una fornitura di un bene ma di un facile quindi mi immagino che alcune risposte insomma possono emergere dalla relazione che segue sì tra l'altro io mi occupo anche in modo espresso di ristrutturazione perché vedete i quesiti che si possono porre in materia di appalto e condominio sono sicuramente molti e numerosi e quindi al posto di fare una carrellata insomma su che finirebbe inevitabilmente per essere superficiale ho preferito concentrarmi su un rimedio particolare su una specie particolare tuttavia di larga applicazione e quindi questo spiega perché tra i molti temi che si potrebbero porre io ho scelto proprio questo che adesso vado a illustrare e che tra l'altro è molto utilizzato anche e l'appunto specificatamente quando si va a ristrutturare l'immobile del condominio allora io adesso procedo a condividere il mio schermo così si può essere più agevole usate eccolo qua condivido e a rispetto presentazione ecco qua allora spero che le slide si vedano e che quindi insomma si possa seguire quello che sto che procedo a a dire oggi in questa ecco in questo confronto che vorrei avere con voi io un pochino più da da operatrice del diritto voi di quelli che naturalmente avete necessità a volte della nostra collaborazione per risolvere i problemi che oggi andiamo ad affrontare cioè in particolar modo la rovina e i gravi difetti dei beni immobili e quelli che sono i compiti dell'amministratore di condominio cioè che cosa su che cosa verterà il mio intervento sul fatto che a volte l'immobile condominiale e quindi qui siamo se il professore Dalla Massara si è occupato di beni mobili e di compravendita io mi occupo all'opposto del bene immobile su cui si fonda il condominio cioè l'edificio condominiale e i problemi che possono essere inerenti allo stesso e quelli che sono naturalmente anche i compiti poi dell'amministratore di condominio la norma fondamentale che è doveroso tenere a mente è questa norma qui del codice civile che ho individuato qui perché bisogna andare un attimo a leggerla perché per l'appunto chiaramente il mio intervento non può che partire da un'analisi breve del codice civile però ecco quello di cui andiamo a parlare è contenuto in questo articolo qui che dice che quando si tratta di edifici quindi il nostro caso o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera per vizio del suolo o per difetto di costruzione rovina in tutto o in parte ovvero presenta evidente pericolo di rovina o ancora gravi difetti l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi avventi causa purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia allora non è adesso importante analizzare riga per riga o virgola per virgola questa norma perché andremo a sviscerarla poi nel corso del mio intervento è però importante che rimanga impresso questo concetto qui c'è che a volte l'edificio condominiale chiaramente anche altri tipi di edifici ma qui siamo alla fiera del condominio e ci interessa del condominio quindi quando l'edificio condominiale presenta o una rovina quindi rovina in tutto in parte oppure pericolo di rovina oppure ancora gravi difetti e qui bisogna andare a vedere dopo in che cosa consistano appunto questi gravi difetti e c'è davvero una casistica molto 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 varia molto numerosa che varia dal difetto dell'Africo Solare fino ad altri tipi di non so rapporto termico del condominio che non non è stato costruito in modo corretto ecco in questi casi l'appaltatore e chi è l'appaltatore è il soggetto che ha costruito l'immobile condominiale è il responsabile cioè vuol dire che risponde esercisce il danno nei confronti del committente e dei suoi avventi causa purché ci siano dei termini precisi che vediamo in un secondo momento cioè che cosa vuol dire vuol dire che io appaltatore ho costruito oppure ho fatto dei lavori su un edificio su un immobile questi lavori evidentemente non sono stati fatti in modo corretto sicché o l'immobile rovina oppure presenta un evidente pericolo di rovina oppure ancora presenta gravi difetti in questo caso io sono responsabile secondo l'articolo 1669 quindi nel caso in cui si presenti una di queste situazioni qui che cos'è che succede succede che bisogna agire in giudizio banalmente per per l'appunto ottenere la condanna dell'appaltatore in principalità risarcimento del danno ma poi vedremo anche qui in modo più preciso che cos'è che possiamo chiedere all'appaltatore e adesso ci dobbiamo un attimo porre il problema della legittimazione attiva cioè che è una terminologia con cui il tecnico del diritto indica il soggetto che è legittimato cioè che può e nel caso dell'amministratore di condominio voi sapete meglio di me che c'è anzi un potere dovere la legittimazione attiva insomma è questa legittimazione ad agire in giudizio chiedendo a taluno conto di una cosa illecita scorretta che ha che ha fatto cioè secondo l'articolo 1669 nonostante la norma di legge dica solamente il committente che nell'ambito del contratto d'appalto è quello che commissiona l'opera all'appaltatore qui cioè nonostante secondo la giurisprudenza che quindi interpreta il dettato della norma in maniera estensiva ricomprendendoci anche un soggetto cioè l'amministratore di condominio che non è espressamente ricordato nella norma ciò nonostante secondo la giurisprudenza ma è una giurisprudenza abbastanza recente non è una giurisprudenza che risale al al codice civile è qualcosa di più recente con la sentenza che voi vedete tra parentesi nella slide anche l'amministratore di condominio è legittimato ad agire in giudizio chiedendo all'appaltatore conto per l'appunto della dell'inesatta esecuzione o dell'edificio condominiale quando sia stato costruito ex novo chiaramente oppure anche per ristrutturazioni qualora ci siano i difetti che ci siamo detti prima sommariamente e che poi andremo a come dire su cui andremo a confrontarci in modo più specifico nel corso della trattazione quindi questa è una prima notazione di diritto cioè bisogna ricordare che il fondamento dell'articolo su cui noi ci stiamo di cui ci stiamo occupando è l'articolo 1669 che dà un rimedio cioè dà una azione processuale che è esperibile in giudizio non solo dal committente che è quello che ricorda in modo espresso la norma a volte il diritto fa questi strani scherzi per i quali la norma testualmente dice una cosa però poi in realtà la si interpreta in modo differente e qui vediamo che la giurisprudenza in realtà e la Corte di Cassazione ha interpretato in modo molto estensivo il riferimento al committente perché c'è il committente ci sono i suoi venti causa c'è il possessore c'è la cliente del bene c'è l'amministrazione di condominio e in realtà ci sarebbe addirittura qualsiasi terzo danneggiato come hanno ribadito anche delle recenti sezioni unite della Corte di Cassazione ovvero insomma quando la Corte di Cassazione su una questione particolarmente controversa si pronuncia con un'autorevolezza particolare benissimo qui poi ci dobbiamo anche porre un altro problema sempre relativamente alla legittimazione attiva cioè che tipo di responsabilità ha il che tipo di responsabilità vado a invocare quando io amministratore di condominio convengo in giudizio all'appaltatore per l'inesatta esecuzione dei lavori e qui questa è una cosa che forse interessa un po' di meno però fino a un certo punto perché la qualificazione della responsabilità dell'appaltatore come contrattuale ovvero da inadempimento di un'obbligazione oppure extra contrattuale in quanto derivante da fatto illecito questa è la grande distinzione a conseguenze molto rilevanti sui termini di prescrizione non intendo fare un discorso molto preciso sui termini però vi basta sapere questa propria differenza fondamentale secondo la giurisprudenza quella dell'appaltatore è una responsabilità che origina dal semplice fatto di aver costruito l'immobile e chiaramente averlo fatto in maniera sbagliata in maniera scorretta altrimenti non ci saremmo non si porrebbe nemmeno il tema della rovina del pericolo di rovina oppure del grave difetto del bene immobile quindi non rileva la qualificazione del rapporto giuridico in base al quale è stato costruito l'immobile ma quello che conta è aver costruito l'immobile e questo cosa vuol dire? vuol dire che l'amministratore di condominio può chiedere conto non solo all'appaltatore in quanto formalmente legati da un contratto d'appalto ma anche alle altre persone agli altri soggetti che siano intervenuti anche ad altro titolo anche senza valido titolo legale nel senso non c'è un contratto ma per il semplice fatto di averlo fatto di aver costruito l'immobile in questo senso ecco come si diceva tutte le persone che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile e lascerei da parte quello che dice la dottrina perché alla fine il taglio del mio intervento vuole essere pratico in accademia si discute invece la giurisprudenza di quello che alla fine ci interessa tutti i giorni per decidere se come in che termini agire in giudizio non ha da questo punto di vista nessun dubbio è una responsabilità extra-contrattuale di chiunque abbia costruito un immobile in maniera scorretta inesatta imprecisa negligente e quant'altro ecco questa è quello che vi interessa una cosa che vi interessa in modo un po' pochino più specifico cioè quando noi parliamo di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio dobbiamo chiederci innanzitutto da dove origini questa legittimazione attiva cioè abbiamo detto posto che non è possibile rinvenire nel testo proprio dell'articolo 1669 un riferimento espresso all'amministratore di condominio qui appunto è intervenuta la giurisprudenza ed è intervenuta con le sentenze che voi vedete al primo punto della della slide la prima è stata nel 2015 poi è stato confermato nel 2017 nel 2018 e da ultimo nel 2020 ormai quindi non si può più dubitare certo con una sentenza isolata e un po' tra virgolette da sola se il dettato normativo dice tutt'altro è forse un po' pericoloso fondarsi su quell'unica sentenza che afferma il diritto dell'amministratore di condominio che agire in giudizio tuttavia ormai si possiamo affermare che il numero di sentenze queste sono le principali poi ce ne sono altre poi c'è la giurisprudenza cosiddetta di merito cioè le corti territoriali questa è solamente la Cassazione che ha un'autorevolezza insomma di un certo peso ecco ormai possiamo dire che siamo di fronte a un orientamento quello che si chiama un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza e che quindi l'amministratore di condominio possa pacificamente agire in giudizio ma ancora una volta posto che la norma di riferimento non lo legittima in modo espresso proprio testuale ad agire in giudizio ci si deve chiedere su che cosa si sia fondata la giurisprudenza nel riconoscergli questa questa legittimazione attiva e la risposta è contenuta al secondo punto della slide cioè sull'articolo 1130,4 il codice civile cioè è potere dovere dell'amministratore di condominio compiere tutti gli atti conservativi che si rendono necessari sulle parti comuni dell'edificio e qui probabilmente ci sarà qualcuno che potrebbe ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe obiettare sì ma che cosa succede nel caso in cui la rovina il pericolo di rovina o il grave difetto del bene immobile non si collochino su una parte comune dell'edificio ma invece siano localizzate su un bene esclusivo del condomino nel suo appartamento proprio sulla sua porzione ecco di immobile e magari insomma quel condomino sia sena d'ambiente non si interessi particolarmente della cosa ecco perché l'articolo 1130 fa riferimento alle parti comuni dell'edificio e lì nulla a question che l'amministratore anzi ha un suo potere e dovere quello di conservare l'edificio e le sue parti comuni qui ancora una volta la giurisprudenza ha esteso il dettato dell'articolo 1130 comma quarto nel senso sì le parti comuni ma in realtà si fonda sull'articolo 1130 comma quattro anche un potere in qualche modo dell'amministratore di condominio in qualche modo ripeto adesso ho portato sentenze che circoscrivono un po' meglio questo che specificano meglio questo punto ma anche sulle parti esclusive in quanto è compito dell'amministratore di condominio la tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà cioè i difetti di cui noi ci stiamo occupando in questa sede sono talmente gravi perché hanno una gravità speciale rispetto a una banale una piccola infiltrazione pure allo scostamento di una piccola parte della vernice della facciata qui stiamo parlando delle cose più gravi che possono succedere al condominio e abbiamo come quindi come risposta della giurisprudenza l'orientamento che adesso vediamo sì è vero che l'articolo 1130 legittima l'amministratore a compiere tutti i dati conservativi che si rendano necessari sulle parti comuni dell'edificio però qual è il problema che qui ci sono dei difetti talmente tanto gravi che anche se sono localizzati in qualche modo in una parte che è riferibile a un solo condomino il problema è il seguente cioè sono suscettibili anche qualora incidano prevalentemente su una parte esclusiva dell'immobile di affliggere in qualche modo di impicciare la sicurezza di tutto l'immobile e quindi basandosi sulla tutela indifferenziata dell'edificio condominiale nella sua unitarietà l'amministratore di condominio è legittimato a intervenire anche qualora per esempio rovini una parte ad uso esclusivo dell'immobile condominiale ora andiamo più in dettaglio su questo punto qui la disposizione che vi ho citato poco anzi cioè l'articolo 1130 come al quarto del codice civile non va non può essere interpretata nel senso che l'amministratore possa chiedere soltanto misure cautelari perché si parla di atti conservativi ma si riferisce a tutti gli atti diretti a conservare più in generale l'esistenza delle parti comuni e quindi legittima l'amministratore a proporre l'azione di cui al 1669 del codice civile contro l'appaldatore e cosa più importante anche senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini qui bisogna poi vedere caso per caso perché è chiaro che se c'è un pericolo di rovina dove è fondamentale a dire un tribunale in tempi rapidi chiaramente non c'è il tempo di ottenere prima l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini però l'amministratore lo deve fare deve tutelare l'edificio perché rientra nei suoi compiti e quindi in questo caso è pacifico che possa direttamente ricorrere al giudice e che poi come dire relazionerà l'assemblea dei condomini magari in un secondo momento posto che quando c'è un pericolo di rovina dell'edificio condominiale è una di quelle cose insomma autovidenti chiaramente non sta quando aspettare la convocazione dell'assemblea del condominio dove Tizio non può venire eccetera eccetera e magari l'immobile crolla del tutto intanto si va davanti al giudice per proporre anche l'azione di cui all'articolo 1669 che è una vera e propria azione giudiziaria cioè poi si apre un procedimento un'azione processuale che dà origine ad un ad un processo che può andare avanti anche per un considerevole periodo di tempo e quindi non può chiedere solamente misure cautelari che comunque chiaramente potrà chiedere però può fare anche qualcosa di più cioè può proprio intraprendere un'azione volta a far valere la responsabilità dell'appaltatore è una cosa un po' più incisiva del chiedere un provvedimento cautelare perché per l'appunto è un si apre un procedimento dove poi alla fine più che conservare una situazione di fatto che magari in meglio tempo che per l'appunto ha bisogno di qualche provvedimento cautelare per essere conservata ma va in modo più incisivo a far valere la responsabilità dell'appaltatore qui c'è un pezzo un pochino più lungo di una cassazione abbastanza recente del 31 gennaio 2018 che però io ho ritenuto importante riportare in questa sede con delle persone che questo mestiere lo fanno per davvero quello dell'amministratore di condominio in quanto si riferisce direttamente a loro e che cosa dice questa cassazione dice che in tema di condominio il 130 numero 4 codice civile che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente questa cosa qui è molto importante questo passaggio molto importante perché è il come dire è la legittimazione del fatto che il 1130 ma anche abbiamo visto prima il 1669 testualmente proprio dal punto di vista formale cioè se uno apre il codice e legge questo voglio dire dicono una cosa ma poi la giurisprudenza lo interpreta in un altro in modo un pochino più estensivo cioè inserendo nella disposizione anche cose che il testo scritto di legge non aveva previsto perché per l'appunto nel frattempo la società volve ci sono nuove esigenze e non c'è sempre il tempo di ricorrere al Parlamento per una modifica del testo legislativo la giurisprudenza lo fa va benissimo interpreta in questo senso il dettato normativo e questa cosa qui prevale sul dettato normativo quindi interpreta estensivamente questa norma nel senso che oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o alla parte comune l'amministratore ha il potere e dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato quindi qui si sta un po' esorbitando dalle parti comuni e si inizia a guardare quindi la sulla tradizionale ormai distinzione tra parti comuni e parti esclusive e si guarda all'edificio condominiale considerato come una unità dove quindi queste distinzioni vanno anche un po' a perdersi pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di cui l'articolo 1130 numero 4 l'azione di cui all'articolo 1669 che è quella che stiamo vedendo oggi pomeriggio in questo confronto con voi intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione nel caso in cui questi riguardino l'intero condominio edificio condominiale e i singoli appartamenti vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio in singoli condomini ad agire per il risarcimento e questa è la parte fondamentale senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto qui dobbiamo fermarci un attimo perché viene fuori un pochino quello che si diceva anche alla fine dell'intervento del professor Dalla Massara ci sono i singoli condomini e poi c'è il condominio e si diceva prima aveva detto un vostro vostro collega aveva chiesto se citando una corte di Cassazione il singolo condomino potesse al di là dell'essere un condomino un consumatore quindi agire anche in quella veste legato al condominio come consumatore ecco qui con il condominio c'è sempre un'alternanza di piani perché ci sono i singoli condomini c'è l'amministratore e c'è in qualche modo il condominio che dovrebbe riunire un po' tutti questi tutti questi piani qui qual è il problema c'è che il innanzitutto l'amministratore ha poteri doveri legali che deve naturalmente adempiere che gli sono attribuiti dal codice civile primo fra tutti quello di compiere atti conservativi inerenti alle parti comuni dell'edificio si diceva prima qui di Iuris cioè che cosa dice il diritto qualora il difetto invece si collochi su una parte privata ecco qua la giurisprudenza legittima in modo estensivo l'amministratore di condominio e dice che non si deve fare distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto e insomma si pensi a un caso abbastanza frequente cioè al fatto che si interpelli un condomino su una certa cosa e questo tenga un atteggiamento inerte ora è chiaro che se io non rispondo su quanto io intenderò pagare le spese condominali è sicuramente un fatto grave ma è un fatto che a un certo punto l'amministratore di condominio prende la delibera condominiale da cui si come si dice si approva ecco il consultivo dell'anno viene fuori che emerge che tizio deve x al condominio va davanti al giudice chiede un decreto ingiuntivo e si fa dare i soldi a volte l'inerzia del condomino può produrre effetti molto più pregiudizievoli di questa situazione qui e nel caso appunto in cui io non appunto tenga io singolo condomino tenga un atteggiamento inerte qualora la mia parte di immobile sia interessata dai difetti dell'articolo 1669 beh è un problema sicuramente maggiore perché per l'appunto sono difetti talmente tanto gravi che poi si può banalmente si in genera un problema per tutto il condominio e quindi anche se l'articolo 1130 parlerebbe di parti comuni dell'edificio qui la giurisprudenza legittima l'amministratore ha per l'appunto ad agire anche quando il difetto pertenga a un singolo appartamento anche i singoli condomini certo per la ragione opposta cioè nel caso in cui magari l'amministratore di condominio non sia solerte e invece il difetto ci sia sia presente e richieda anzi un intervento pronto un intervento anche veloce secondo appunto del difetto di cui stiamo discutendo ecco qui dobbiamo adesso abbiamo parlato delle estensioni dei poteri dell'amministratore che sono state fatte in via giurisprudenziale dalla corte di cassazione però è chiaro che anche i poteri dell'amministratore non siano infiniti pur con appunto con situazioni che invece legittimano un intervento più pronto e anche non limitato alle sole parti comuni perché qui è una cassazione molto recente perché dell'anno scorso cassazione ordinanza 17 febbraio 2020 qui ci sono tutti i riferimenti per chi volesse leggerla con più calma e che cosa si dice qui che se va riconosciuta la legittimazione dell'amministratore del condominio a promuovere l'azione di cui ci stiamo occupando e qui ritorno all'espressione a tutela indifferenziata dell'edificio nella sua unitarietà in un contesto nel quale i pregiudizi derivanti da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile ancorché interessanti di riflesso anche quelle costituenti di proprietà esclusiva dei condomini e a chiedere la relativa rimozione eliminando radicalmente le comuni cause o condannando anche il costruttore alle relative spese ecco tale legittimazione non può tuttavia estendersi anche alla proposizione senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini delle azioni risarcitorie in forma specifica per equivalente pecuniario relative ai danni subiti ai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva quindi che cos'è che non può fare l'amministratore a meno che non ci sia un mandato specifico da parte del singolo condomino a promuovere un'azione risarcitoria per i danni subiti dal singolo condomino nel suo immobile proprio singolo di proprietà esclusiva questa cosa qui l'amministratore non lo può fare che cosa vuol dire azione risarcitoria in forma specifica o per equivalente ecco giusto perché si possa appieno capire quali sono i limiti del potere dell'amministratore l'amministratore non può proporre non può esercitare non può esperire azioni risarcitorie in qualsiasi forma ci sono due forme principali due forme di risarcimento o il risarcimento si dice è in forma specifica o è per equivalente pecuniario cioè che cosa vuol dire per equivalente pecuniario vuol dire che si ripara al danno con una somma di denaro non ho adempiuto un contratto se calcola quanto vale il valore del mio inadempimento io sarò condannata a pagare x stavo parcheggiando e ho sfregiato la macchina del vicino si calcola quanto vale la macchina del vicino e mi si mi si condanna a per l'appunto a ripagare ecco il danno che io ho cagionato questo è per equivalente pecuniario in forma specifica vuol dire invece che si ripristina la situazione che c'era prima del danno per quanto possibile ora che cosa potrebbe voler dire vuol dire che se ecco facciamo un esempio relativamente al condominio che se io appaltatore non lo so invece di ridipingere il condominio di bianco lo ridipingo di verde è chiaro che questa cosa qui io non la potevo fare perché è io e l'amministratore di condominio avevamo convenuto ecco che il colore fosse il bianco e magari così era pure specificato in ruolamento condominiale io invece ho fatto verde l'esercimento in forma specifica vuol dire che io lo rifaccio bianco a mie spese se io ripristino la situazione che ci doveva essere ok se io ho commesso come in questo caso un addempimento posso pagare quindi vuol dire equivalente a pecuniario il valore del mio inadempimento quanto vale quanto quanta ricchezza ho come dire ho rovinato oppure in forma specifica cioè facendo qualcosa che io dovevo fare sin da subito e quindi in questo caso ritinteggiare a mie spese il condominio di bianco per tornare sui limiti del potere dell'amministratore nel momento in cui un singolo condomino abbia avuto un danno sul suo immobile di proprietà esclusiva l'amministratore di condominio non può chiedere i danni per quel non può agire appunto chiedendo quei danni a meno che perché sono appunto dei singoli condomini dentro alla loro parte esclusiva qui o il condomino lo legittima da appunto un mandato oppure questa cosa qui gli è preclusa per quanto appunto l'articolo 1669 sia come abbiamo visto e come questa sentenza ricorda in modo espresso nelle prime righe dell'inciso che vi ho riportato nonostante questa interpretazione estensiva dell'articolo 1669 qui c'è un limite che deve essere tenuto presente per non incorrere nel rigetto della domanda benissimo ora abbiamo chiarito che l'amministratore di condominio può agire al senso dell'articolo 1669 se non che bisogna chiedersi verso chi agisce cioè chi conviene in giudizio secondo il rimedio che qui oggi interessa allora innanzitutto può convenire in giudizio l'appaltatore cioè la persona che ha compiuto l'opera sul condominio che si era preventivato oppure il venditore costruttore cioè io vendo un immobile che io ho costruito io domani faccio un immobile un condominio in centro Verona e poi lo vendo se non l'ho costruito in modo adeguato viene fuori rovina pericolo di rovina o gravi difetti del bene immobile l'amministratore di condominio può convenire in giudizio quindi anche se la norma parla solamente l'appaltatore anche il venditore costruttore ma ancora ah e tra l'altro queste la legittimazione passiva cioè si può anche cumulare cioè io da amministratore di condominio posso far ma anche insomma agendo generalmente secondo il 1679 posso agire contro più di queste persone a seconda del caso concreto naturalmente cioè non è che convenire in giudizio l'appaltatore esclude la responsabilità di qualche altra persona possono esserci più responsabilità anche se qui chiaramente quella che è ricordata per prima e che di solito è quella più più rilevante è quella dell'appaltatore poi c'è il venditore costruttore quindi abbiamo l'impresa edilizia e anche il direttore dei lavori il progettista più in generale chiunque abbia costruito l'immobile è addirittura lo stesso committente e qui si potrà dire ma se io ho commissionato un lavoro cioè cosa vuol dire se io ho commissionato un lavoro a un appaltatore che l'ha fatto io sono responsabile qui bisogna chiarire perché è chiaro che io se commissiono un lavoro all'appaltatore è lui poi che si deve occupare di tutto il profilo tecnico e che deve tradurre il mio desiderio tra virgolette in realtà chiaramente se possibile svolgendo un'opera a regola d'arte secondo tutte quelle che sono le norme tecniche avvelindosi delle persone competenti eccetera però capita a volte che il committente abbia un'ingerenza talmente tanto pesante nei lavori che praticamente è lui che li dirige e poiché la giurisprudenza ritiene che la responsabilità del 1669 sia di chi costruisce l'immobile se io ingerisco talmente tanto nei lavori che l'appaltatore si dice con un'espressione un po' aulica è solamente il nudus minister cioè che cosa vuol dire che l'appaltatore è uno che esegue gli ordini ma sono io committente che li prendo che dirigo che faccio allora la responsabilità alla fine di tutto sarà mia qui ora ci occupiamo in modo un pochino più preciso delle situazioni che legittimano l'esperimento del 1669 che sono la rovina il pericolo di rovina e i gravi difetti dell'immobile ora qui si viene a parlare perché diciamo che per quanto riguarda le situazioni legittimanti credo che la rovina non abbia bisogno di particolare spiegazione la rovina è auto evidente a tutti cioè un immobile come si suol dire rovina il suolo non tutto l'immobile rovina totale oppure anche parte dell'immobile rovina parziale in ogni caso qualsiasi tipo di rovina legittima l'esperimento del 1669 2 pericolo di rovina cioè quella situazione in cui è evidente che ormai la rovina è un passaggio prossimo e poi i gravi difetti dell'immobile questa è un'allocuzione volutamente generica del codice civile che poi vedremo come la giurisprudenza ha specificato cioè quali sono i gravi difetti dell'immobile per ora però lo teniamo un attimino da parte perché appunto qui alla fine si risponde alla domanda che era stata fatta al professore Dalla Massara per ultimo e che ha costituito il trade union tra i nostri due interventi perché ci dobbiamo chiedere è applicabile o no alle opere di ristrutturazione perché ancora una volta l'articolo 1669 parla di costruzione e quindi qui di giuris per le opere di ristrutturazione perché se io posso agire in giudizio solamente entro i dieci anni dal compimento della costruzione dell'immobile beh possiamo ben dire che ci sono moltissimi condominio che rimangano esclusi dalla possibilità di far valere l'articolo 1669 ora all'inizio ci sono secondo me tre Cassazioni importanti da tenere a mente su questo punto nel 2015 la Cassazione aveva escluso il 1669 alle opere di ristrutturazione cioè aveva fatto valere quella che si suol chiamare un'interpretazione letterale cioè cosa vuol dire che era molto fedele al dettato della norma il 1669 parla di costruzioni quindi aveva escluso questo rimedio l'applicabilità di questo rimedio alle opere di ristrutturazione sono però poi intervenute le sezioni unite del 2017 che hanno ritenuto l'articolo 1669 applicabile anche alle opere di ristrutturazione e in generale quindi non solo la ristrutturazione ma anche agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata sui mobili preesistenti cioè che cosa vuol dire vuol dire che se io metto mano all'immobile per ristrutturarlo oppure fare interventi manutentivi o modificativi però devono essere di lunga durata cioè pensati per essere bene o male definitivi per appunto durare per un arco di tempo molto lungo sui mobili preesistenti allora in questo caso è possibile agire in giudizio secondo l'articolo 1669 cioè che cosa vuol dire vuol dire che se io costruisco una non lo so una tettoia assolutamente provvisoria perché sto facendo dei lavori che voglio evitare che piova dentro il condominio è chiaro che quella tettoietta non è una opera manutentiva che è pensata per lunga durata altro è se io invece costruisco una tettoia con con i materiali idoni che io penso essere in prefiguro non essere lì solamente per evitare che piova dentro ma per essere per essere parte integrante dell'immobile proprio intenso in senso stabile e quindi quell'opera ha un problema allora io posso agire secondo 1669 poi abbiamo un intervento della Cassazione ulteriormente ampliativo e dice che non è solo applicabile a quanto visto sinora ma anche a ogni intervento di lunga durata anche eseguito non sull'immobile principale qual è la linea comune tra il 2017 e il 2018 questa specifica della lunga durata cioè non devono essere interventi provvisori devono essere ristrutturazioni manutenzioni altre modificazioni di qualunque tipo però pensate per una lunga durata e ancorché non vengano esegute sull'immobile principale qui abbiamo detto già che cos'è la rovina ma d'altra parte insomma penso che sia una un'ipotesi che ci si possa prefigurare anche abbastanza agevolmente quello che forse tenderei a precisare ulteriormente è che la porzione interessata lo vedete al punto 2 dalla rovina non svolga una finalità unicamente estetica questo perché l'articolo 1669 da una responsabilità invoca una responsabilità molto pesante dell'appaltatore quindi è legittimante come dire prende in considerazione solamente le cose proprio più gravi che possono accadere quindi tutto sommato se è rovinata una parte che svolge una finalità unicamente estetica si richiederà un esercimento del danno normale che cosa sono i gravi difetti questo è una cosa che ci può interessare invece perché per l'appunto fin qui abbiamo detto tante cose però che cosa sono i gravi difetti che poi mi legittimano ad agire col rimedio che ci stiamo dicendo allora è un difetto che deve essere in grado di pregiudicare in modo grave non necessariamente globale quindi può insistere anche solamente su una parte dell'immobile la funzione alla quale l'immobile è destinato e nei limiti in modo notevole le possibilità di godimento anche con riferimento per l'appunto come vi dicevo non necessariamente globale cosa vuol dire anche con riferimento di una sola parte apprezzabile dello stesso non deve incidere indispensabilmente sulla stabilità dell'opera però deve pregiudicare in modo grave la funzione cioè quella abitativa alla quale l'immobile è destinato e ancora i gravi difetti pregiudicano o vanno a meno mare in modo grave il normale godimento e o la funzionalità e o l'abitabilità dell'immobile come nel caso in cui la realizzazione sia avvenuta con materiali per esempio idonei non a regola d'arte anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera l'impermeabilizzazione i rivestimenti gli infissi cioè è chiaro che se io ho dei problemi agli infissi questo non necessariamente incide sulla stabilità dell'opera però è evidente che avere degli infissi che non funzionano in modo adeguato mi limita fortemente tra l'altro adesso ci stiamo avvicinando all'inverno il normale godimento ma anche l'abitabilità dell'immobile ecco si ripete purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ecco qui poi vi ho riportato in modo un pochino più pratico un po' di casistica su cosa si intenda con questi fantomatici gravi difetti e queste espressioni un po' un po' vaghe che talvolta usa la giurisprudenza cioè qualunque cosa che possa incidere sull'abitabilità dell'immobile in modo grave eccetera eccetera perché non si specificano troppo perché per l'appunto la casistica può essere potenzialmente infinita e qui ne vediamo un po' si va dalla pavimentazione interna ed esterna delle scale all'impiantistica all'umidità delle murature l'ascensore l'inefficienza dell'impianto idrico della forza biologica dell'impianto generalizzato di riscaldamento in tonici esterni dell'edificio collegamento diretto con gli scarichi di acque bianche dei pluviali con la condotta fognaria quindi abbiamo visto insomma questa è solo una parte mi raccomando della casistica già avevano ricordate di recente le sezioni unite del 2017 però la casistica è in costante e continua evoluzione quindi non è che se l'ipotesi non è ricordata in modo espresso dalle sezioni unite del 2017 si deve ritenere estranea all'ambito dell'articolo 1669 purché per l'appunto ci si ricordi la pregiudicazione in modo grave della funzione oppure dell'abitabilità oppure del normale ricordimento del bene immobile nel condominio qui poi c'è una slide su cui andrei un pochino più veloce perché l'articolo 1669 richiama che l'origine della responsabilità dell'appaltatore dovrebbe derivare dal vizio del suolo o da difetto di costruzione eccola qui uno vizio del suolo perché perché il vizio del suolo e non solamente il difetto di costruzione è chiaro che nel momento in cui io sono un appaltatore devo costruire un immobile a regola d'arte o comunque devo fare un intervento manutentivo oppure una distrutturazione a regola d'arte e quindi il richiamo al vizio del suolo potrebbe un pochino potrebbe stupire ma non deve perché la costruzione a regola d'arte presuppone anche una mindagine specifica del posto dove io sono della consistenza del suolo su cui io vado a edificare o in qualche modo a intervenire e quindi l'appaltatore risponde di non avere adeguatamente valutato lo stato del suolo per poi andare per l'appunto a intervenire con il suo intervento con l'opera che è stata convenuta col contratto d'appalto e questo dice la Cassazione nel 2017 anche se le indicazioni dello stato del suolo provengono dal progettista o da altri professionisti comunque lui se ne fa carico perché lui sta costruendo comunque sta intervenendo su una su un immobile dove devono abitare delle persone e quindi è fondamentale che tenga conto di tutto cioè non solo dell'intervento che deve andare a porre in essere ma anche di dove lui va a intervenire chiaro che intervenire su una zona rischio sismico medio è una cosa andare a intervenire in una zona invece più tranquilla impone altri tipi di cautela ecco qua adesso siamo giunti in giudizio abbiamo deciso abbiamo ritenuto che l'amministratore del condominio possa agire quali difetti deve presentare il condominio quali sono questi gravi difetti che cosa dobbiamo chiedere vi dicevo o il risarcimento del danno e secondo la giurisprudenza fino al 1995 è stata l'unica cosa l'unica cosa che si poteva chiedere oppure anche l'esercimento in forma specifica cioè tu puoi condannare tu puoi chiedere la condanna dell'affaltatore alla esecuzione diretta di tale opere cioè di quello che l'affaltatore non ha fatto io prima ho fatto l'esempio della ritindeggiatura del condominio ma se ne possono fare innumerevoli se io ho sbagliato a intervenire sull'astrico solare e alla fine è gravemente rovinato io come appaltatore posso essere condannata al rifacimento dello stesso a mie spese chiaramente a mie spese appunto perché io ho creato il problema io devo intervenire risarcendo in forma specifica si dice quello che io non ho fatto bene la prima volta ecco questa è una cosa che magari potrebbe potrebbe interessare perché nel momento in cui io vado a come dire a chiedere la condanna all'appaltatore di eseguire direttamente l'opera questo è probabile che anche un condominio risolva abbastanza cioè non l'hai fatto bene la prima volta ritenteggia piuttosto che andare a cercare un altro professionista che relazionare l'assemblea condominiale richiedere se tutti sono d'accordo e procedere di nuovo così forse è più semplice che il giudice direttamente condanni la stessa persona al risarcimento in forma specifica ecco qui forse ci sono state delle pronunce che in qualche modo però insomma sono abbastanza di di scarso interesse perché comunque non fanno venire meno il fatto che si possa chiedere anche l'esecuzione dietro di tale opere certo a volte per il professionista può essere una condanna molto gravosa quella dell'eliminazione dei difetti di costruzione e quindi si come dire alcune pronunce specificano un po' meglio i casi in cui si può chiedere questo famoso risarcimento in forma specifica qui per esempio si dice però queste cose qui sono forse un po' più giuridiche che sono anzi sono più giuridiche che non per come dire per forse per questo contesto proprio pienamente però ecco ci serve una differenza tra la modificazione elementazio non mutamento mutazio e la domanda di rientrazione in forma specifica se poi si passa alla richiesta di risarcimento del danno si dice che appunto è una modificazione quindi ammessa non un mutamento della domanda di rientrazione in forma specifica però ecco qui c'è una cosa che sicuramente più che queste cose che sono un pochino più magari meno interessanti questa è una cosa invece fondamentale perché ecco qui dovrò purtroppo annoiarvi con un altro articolo del codice civile però che cosa succede in tema di onere probatorio che cosa vuol dire onere probatorio vuol dire che quando io agisco in giudizio io devo anche provare i fatti su cui si basa la mia richiesta cioè non posso dire giudice condanna appunto però ci sono si dice degli oneri probatori differenziati a seconda della fattispecie di responsabilità cioè se contrattuale o extra contrattuale che io faccio valere in giudizio e che cosa vuol dire vuol dire che appunto la grande distinzione è tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extra contrattuale e che abbiamo detto prima che la giurisprudenza qualifica l'articolo 1669 in termini di responsabilità extra contrattuale o da fatto illecito cioè cosa vuol dire lo ripetiamo che la responsabilità origina per un fatto illecito appunto cioè per il mero fatto di non aver costruito un immobile a regola d'arte oppure per aver fatto una riparazione erronea oppure per aver fatto un intervento manutentivo erroneo eccetera eccetera ora la responsabilità extra contrattuale ha un si chiama regime probatorio abbastanza gravoso per la persona che va ad azionarla perché bisogna provare tutto in buona sostanza bisogna provare il fatto bisogna provare la responsabilità bisogna provare il nesso di causa si dice tra le due cose quindi non so c'è il fatto da cui deriva il mio illecito c'è il mio illecito il danno che io ho patito devo provare tutti e due più il nesso di causa cioè che il mio danno derivi effettivamente da quella cosa lì invece la responsabilità contrattuale è molto più leggera perché mi basta allegare si dice il mero fatto dell'inadempimento qui le sezioni unite del 2014 quindi di qualche anno prima di quelle famose del 2017 che hanno aperto la ristrutturazione in tema di ordine di redione riscutata e probatorio riperiscono che nonostante ci sia una responsabilità secondo la giurisprudente extra-contrattuale cioè nonostante vale il regime della responsabilità contrattuale quindi ci si può ce la si può cavare molto tranquillamente facendo valere il fatto dell'inadempimento del costruttore quindi una cosa molto più leggera rispetto alla responsabilità extra-contrattuale anzi è in realtà tale lo standard probatorio che ci si è chiesti se non si tratti di una responsabilità oggettiva che cosa vuol dire la responsabilità oggettiva è in buona sostanza un tipo di responsabilità dove chi deve rispondere di un certo danno lo fa per il semplice fatto che il danno si è verificato quindi senza che ci sia stato magari o qualsiasi altra cosa da parte sua nella causazione del danno se io ho un cane e questo cane morde qualcun altro io agisco cioè io devo risarcire questo danno per il semplice fatto che si è verificato per esempio ci si è chiesti se appunto dato che l'onere probatorio e in realtà lo standard di condotta richiesto all'appaltatore per andare esempio si dice da responsabilità senza articolo 1669 è talmente alto che ci si chiede se non sia in realtà una ipotesi di responsabilità oggettiva ma insomma è una domanda che ancora non ha avuto una risposta chiara la giurisprudenza però impone appunto all'appaltatore un onere di condotta uno standard ecco si dice di condotta così tanto alto che in qualche modo sfiora la responsabilità oggettiva ma d'altra parte questo si spiega perché l'appaltatore nel 1669 costruisce immobili immobili dove la gente poi va a vivere quindi qui si spiega anche l'importanza fondamentale anche pubblicistica di questa attività spiega forse il regime particolarmente gravoso nei confronti dell'appaltatore l'ultima cosa quella forse un pochino più noiosa però alla fine se non si salvano i termini questo non tutto tutto questo che ci siamo detti è abbastanza abbastanza inutile se io poi per l'appunto agisco fuori termine dieci anni dal compimento dell'opera che operano come un po' una delimitazione della responsabilità dell'appaltatore cioè io rispondo per dieci anni dal compimento dell'opera e quindi o dalla costruzione o dall'intervento manutentivo o dalla ristrutturazione chiaramente a seconda del tipo di appalto del tipo di opera che io ho fatto però i vizi del bene devono essere denunciati entro un anno dalla scoperta appena di decadenza cioè nel momento in cui io mi rendo conto che che ne so c'è una infiltrazione pesantissima e io me ne rendo conto io amministratore di condominio non posso agire dopo dieci anni io devo agire entro un anno dalla scoperta altrimenti se giudizio viene provato che io ho agito oltre questo oltre l'anno dalla scoperta chiaramente sono in corso in una decadenza e altro termine l'azione si prescrive entro un anno dalla denuncia dei vizi cioè quando io poi denuncio i vizi che li devo denunciare entro un anno dalla scoperta poi io devo anche agire entro un anno tutto questo entro dieci anni comunque dal compimento dell'opera bene io avrei terminato con il mio intervento sull'articolo 1669 e questa questa azione con in che termini può essere fatta valere dall'amministratore di condominio ma chiaramente anche è un rimedio più più ampio più generale sicuramente l'amministratore di condominio abbiamo visto il senso articolo 1130 numero 4 ha una legittimazione importante io tra l'altro vivendo a Milano siamo praticamente tutti in condominio e quindi è sicuramente un potere dovere che grava sull'amministratore e che è esploso poi in quanto a casistica dopo le sezioni unite del 2017 perché per l'appunto aprendo alla ristrutturazione hanno aperto a tutta una serie di ipotesi che prima non si ritenevano escluse da questa da questa azione che appunto ha anche questi termini particolari dunque sì ci sono delle domande che sono arrivate da chi è collegato in webinar a meno che non ci siano delle domande anche in sala altrimenti parto io vediamo se della legge no allora ci faccio io dunque in una richiesta di regolarità urbanistica al comune di Napoli il servizio preposto risponde che la domanda deve farla il condomino eventuale abusivista e non l'amministratore è corretto? Come deve regolarsi l'amministratore? L'amministratore qui dal mio punto di vista si è ottenuto posso che appunto bisognerebbe vedere un pochino meglio qual era la la fattispecie pratica mi sarebbe da dire però se c'è stata questa questa risposta da parte dell'autorità competente allora e credo che l'amministratore di condominio abbia assolto i suoi obblighi di legge per l'appunto se ha fatto lui la richiesta notiziando il condomino e anzi sollecitandolo tra virgolette mettersi in regola da questo punto di vista quindi penserei che l'amministratore di condominio così credo almeno che possa che sia quello che il massimo che gli si può richiedere uno fa una richiesta l'autorità competente gli risponde così solleciterà il condomino anche eventuale abusivista e poi si regolerà il condomino chiaro poi chiedo se l'amministratore del condominio debba agire con i suoi poteri doveri per riparare una colonna di scarico verticale su cui si collegano bagni e servizi che attraversano vari appartamenti presenti ai piani del fabbricato e che al contrario sembra ignorare che le perdite maleodoranti riguardino la colonna e che le perdite riguardino scusi sì che le perdite maleodoranti riguardino la colonna guardi io qua direi di sì sinceramente perché è chiaro che quando ci sono dei condomini anche di mezzo è chiaro che prima magari si prova adesso bisogna vedere anche lì il problema a che punto è giunto se è una cosa con cui ancora si può convivere oppure se bisogna andare di corsa da un giudice per ottenere una soluzione è sempre consigliabile se appunto i tempi non sono strettissimi magari di provare a sollecitare il condomino in attempiente di fare delle comunicazioni formali poi qui chiaramente se l'avvocato d'agosto ha che ha magari più esperienza di me vuole intervenire io personalmente consiglierei all'amministratore di sollecitare il condomino e poi se ancora persiste se siamo in una situazione grave dove per l'appunto la conservazione anche delle parti comuni è inficiata e io allora sinceramente farei agirei secondo i miei poteri di legge secondo il potere e dovere fondamentale che la legge mi impone di seguire l'articolo 1130 chiaro allora se l'avvocato non vuole intervenire proseguo io eventualmente poi ne andremo facoltà intanto è stato lanciato il secondo sondaggio per verificare la soglia di attenzione degli avvocati partecipanti perdite d'acqua da terrazzo su unità sottostanti possono rientrare direi proprio di sì siamo sempre qui qualsiasi difetto aspettate che riprendo le slide allora se lei deve mostrare le slide le chiedo solo un attimo scusi perché ci sono ma non importa guardi me le prendo per me perché interrompo condivisione e rileggo il brano perché per l'appunto come vi dicevo la casistica che ci può essere è potenzialmente infinita quindi non ci può essere una sentenza o un testo di legge che dice 1, 2, 3, 4, 5 tutti i difetti possibili gravi difetti che possono ricomprendersi nell'articolo 1669 quello che deve essere tenuto presente è per l'appunto la sezione unite sui gravi difetti secondo me ancora la chiarezza della casazione 9 1 1 9 del 2012 è insuperata anche se spesso ripresa però appunto il difetto che assume rilevanza ai sensi del 1669 deve essere in grado di pregiudicare in modo grave non necessariamente globale quindi va bene non è un problema nel senso della riconduzione di questa fattispecie del 1669 che ci sia che intervenga solamente su una parte dell'edificio la funzione alla quale l'immobile è destinato limitando in modo notevole la possibilità di godimento insomma sicuramente un'infiltrazione d'acqua ora ripeto con tutti i caverat del caso bisogna vedere di che cosa stiamo parlando cioè con che estensione se è una periodità modesta non si può intervenire col 1669 qui ci dobbiamo nel 1669 come regola generale si occupa delle ipotesi più gravi che possano inficiare un immobile arrivandosi addirittura alla rovina dell'immobile stesso quindi mi verrebbe da dire che bisognerebbe vedere quanto è estesa la cosa quanto è grave quello che posso invece dire è che il fatto che intervenga su una parte singola non è una condizione ostativa alla riconduzione del 1669 entro dieci anni dal compimento dell'opera cosa si intende per compimento dal deposito della fine dei lavori ma dal collaudo di solito ok anche se poi non sempre è previsto un collaudo non sempre è previsto però quando è previsto è quello che fa che fa fede poi anche lì bisogna vedere che tipo di intervento si è fatto ci sono moltissime sentenze che richiamano il collaudo altrimenti io faccio riferimento a dichiarazione fine lavori cioè il progettista dichiara fine lavori e vale da lì i dieci anni direi da quando l'opera può dirsi ultimanza certo chiaro il termine annuale di prescrizione per l'azione si interrompe con la proposizione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo questa è una domanda estremamente allora direi allora qui dovrei inserirmi di fare qualche verifica in più direi di sì la prescrizione normalmente si interrompe con atti di interesse qui è ancora esorto l'avvocato se a qualche magari se gli è capitato un caso di specifico se si sente assolutamente libero di intervenire ma normalmente la prescrizione è un termine che decorre perché l'avente diritto non manifesta interesse sul suo diritto quindi ci sono degli io questo forse lo qualificherei ma appunto io personalmente come un atto di interesse certo che sicuramente agire in giudizio quello per sicurezza interrompe la prescrizione però se poi il ricorso non viene accettato io ritorno indietro come tempistica oppure quando si interrompe la prescrizione riprende a decorre ok allora si tratta di una sopraelevazione su edificio storico qua stiamo parlando stiamo facendo riferimento penso alle perdite d'acqua adesso vado a riprendere eccola qua scusi era la richiesta di regolarità urbanistica al comune di Napoli il servizio proposto risponde che la domanda deve farla il condomino e qui d'abuso quindi da sanare è una sopraelevazione su edificio storico adesso abbiamo ricostruito però confermo quello quello che ho detto se l'autorità competente ha riferito che il soggetto che deve fare questa cosa qui è il condomino mi verrebbe da pensare che l'amministratore di condominio è tranquillo appunto notiziando tempestivamente il condomino e magari sollecitandolo a provvedere perché tutto sia insomma conforme alla legge nel caso di mancata osservanza dei termini previsti dell'articolo 1669 1669 codice civile per la denunzia un anno e azione un anno visto che si tratta di un regime speciale di responsabilità a favore del committente in questo caso qui il condominio è possibile agire secondo il regime generale della responsabilità aquiliana 2043 sì esatto il problema però è probatorio cioè il problema è che io non posso far valere quel tipo di responsabilità per come è costruito dalla giurisprudenza cioè io chiederò il risarcimento del danno secondo il 2043 però qual è il problema l'ho accennato prima il problema è probatorio cioè io ricorrendo col 2043 ho veramente tante cose da provare e quindi è un regime che è sicuramente meno favorevole proprio banalmente di quello che io devo produrre in giudizio di quello che ha costruito la giurisprudenza per il 1669 basandosi appunto sulla particolare importanza delle condotte che sono prese in considerazione da questo articolo perfetto allora è corretto considerare il termine per il decorso dei dieci anni dal rilascio dell'agibilità e aspetti avvocato che integro la domanda con una precisazione sempre del corsista il relatore ha detto che l'azione di denuncia dei vizi e di eventuali anche l'avvocato Luigi D'Agosto che ringrazio per l'intervento interrompe la prescrizione appunto ci sono anche io avrei detto è una cosa che appunto mi fa perfetto è segno dell'interesse sì assolutamente ok si dicevamo appunto che se vuoi intervenire D'Agosto può accendere il microfono e ne ha facoltà naturalmente ah grazie prego ci mancherebbe correttissimo quello che ha detto la collega condivido in effetti comunque poi con la giurisprudenza bisogna sempre guardare un po' cosa dice la giurisprudenza perché ogni volta il rischio è che si disse una cosa e non diventa più attuale allora in questo frangente mentre aveva rivolto la domanda mi sono permesso di fare una ricerca velocissima in banca dati e vedo che la giurisprudenza più decente conferma quello che almeno io mi ricordavo ossia che l'accertamento tecnico preventivo interrompe anche la prescrizione non me lo sarei ricordato francamente però insomma siamo in due e che ho detto mamma mia accertamento tecnico preventivo sicuramente l'azione sì e l'accertamento tecnico preventivo siamo nell'ambito degli atti conservativi ecco in caso di agibilità parziale di unità abitativi in un condominio il termine di dieci anni parte con la prima agibilità oppure bisogna attendere l'ultima guardi qui si arriva a un livello che sinceramente più che altro di particolarità che non su cui sono oggettivamente in difficoltà perché se parliamo appunto del collaudo dell'immobile ok io qui chiederei se la come dire se poi il difetto il grave difetto di cui si sta parlando è interessato cioè se è verificato nella parte che è stata dichiarata agibile o no intanto e comunque io però tenderei a dire che se anche una parte del condominio va bene ma tutto il resto o no io farei o comunque dell'immobile farei decorrere il termine però appunto questa qui bisognebbe guardare un po' di giurisprudenza più specifica secondo me si intende tutto l'immobile perché comunque o sono proprio parti separate oppure un immobile bene o male ha una sua unitarietà e quindi anche il fatto che una parte tutto sommato stia tra virgolette bene possa essere sia agibile insomma non è che sta in un iperuraneo completamente separato dalle altre parti quindi io sinceramente posto che bisogna guardare dove il difetto sia verificato io tenderei a dire che si deve guardare a tutto l'immobile quindi non ha una parte bene direi che da casa da studio insomma dal webinar non scrivano altre domande bene io chiaramente con il pari del professor Dalla Mazzara sono disponibile qualora poi ci sia qualche altra qualche altra curiosità qualche altro dubbio il 1669 è un articolo che è ha un testo di legge che però vive nelle pronunce della giurisprudenza anche solo per capire quali sono i gravi difetti nei quali si può si può si può agire ecco mi scusi se torno un attimo solo un attimo solo poi vi ridò la linea alla sala però uno dei corsisti ha fatto una precisazione quindi vorrei riformorare la domanda perché almeno restiamo sempre nello stesso alveo di competenza il relatore ha detto che l'azione di denuncia dei vizi ed eventuale azione in giudizio deve avvenire nei dieci anni è corretto e integra dicendo oppure si sommano i termini quindi con un massimo di dodici anni dieci più una un anno della denuncia del vizio e un altro anno per l'azione quindi sono dodici appunto non sono quindici sono dodici se dieci più uno più uno sì perdono ho fatto io i conti ah ok ecco no perché in realtà no non è che si sommano cioè c'è un termine che parte da quando l'immobile è stato costruito oppure da quando è intervenuta la ristrutturazione oppure l'intervento manutentivo e lì ci sono dieci anni perché l'amministratore scusate l'appaltatore con questo regime di responsabilità così gravoso non può essere obbligato si ne die ma solamente entro i dieci anni all'interno di questi dieci anni si deve verificare la rovina il pericolo di rovina o il grave difetto del bene immobile cioè i dieci anni funzionano un po' come un limite cioè io oltre questo non posso più agire mi verrebbe da pensare che ci potrebbe essere una specie di non so se la rovina facciamo pinta si verifica nel nono anno undicesimo mese ventesimo giorno allora lì da lì c'è la rovina io avrei un altro anno che quindi va anche oltre i dieci mi sembra un caso un po' un po' statisticamente improbabile mettiamola così che so invece del 31 la cosa si sorge al 30 di dicembre dell'anno in cui scadono i dieci anni normalmente non è che si che si sommano appunto a meno che il difetto non si non sorga proprio sul limitare di questi benedetti dieci anni allora lì chiaramente scatta l'anno per la per la denuncia però appunto statisticamente mi sembra una cosa dei limiti della non credo sia il caso più probabile ecco chiaro e da webinar diciamo che siamo soddisfatti per ora non arrivano altre domande voi siete completamente distrutti da questa relazione super super tecnica super va bene va bene una domanda dalla sala si buon dia ringrazio per la per la brillante relazione ho un doppio quesito come amministratore condominiale le chiedo se nel caso in cui un amministratore non agisca in giudizio contro il costruttore con l'accertamento tecnico preventivo ovviamente se i condomini cambiando amministratore possono poi agire contro l'amministratore per avere lo stesso risarcimento che avrebbero chiesto il costruttore nonostante abbiano ancora del tempo fino alla scadenza dei famigerati dieci anni e se nel caso in cui venga citato l'amministratore quest'ultimo sia coperto dalla polizza di responsabilità civile obbligatoria grazie ancora per l'esposizione guardi direi che come copertura sinceramente se c'è una rovina e io non agisco come come amministratore direi che è un po' non so non credo che la la situazione paghi perché stiamo veramente parlando di situazioni dove bisogna essere dove ci crolla letteralmente l'immobile in testa quindi non so io non devo volere agire in giudizio quindi devo agire con dolo devo tenere un comportamento del genere quindi la situazione non guardi sulla situazione io le risponderei così invece cioè lei mi chiedeva se io se ho capito bene se io sono un'assemblea di condominio c'è stato questo problema medio tempo e si cambia l'amministratore se io posso chiedere al primo lo stesso risarcimento che può chiedere il secondo all'appaltatore questo aveva chiesto no sono cose diverse comunque io faccio valere la sua responsabilità e faccio valere i danni però ci sono due ipotesi di responsabilità diverse non posso chiedere a lei gli stessi danni che avrei potuto chiedere io all'appaltatore chiederò i danni appunto per non avere come si dice correttamente costruito l'immobile non aver agito a regola d'arte e quant'altro all'amministratore chiederò conto delle sue personali non di quelle dell'appaltatore non può ovviamente chiedere all'amministratore di risarcire tutto quello che avrebbe dovuto risarcire il costruttore in quanto ormai sono passati dieci anni quindi in buona sostanza però qui bisogna tenere conto che la giurisprudenza legittima anche il singolo condomino ad agire quindi non è che lo può fare solamente l'amministratore di condominio quindi l'amministratore potrebbe dire sì era mio dovere ma anche tuo perché tu non hai reagito e chiedi a me punto oltre al fatto che non essendo scaduti ancora tutti i dieci anni si potrebbe l'amministratore si poteva ovviamente andare a fare l'accertamento tecnico preventivo e la citazione in giudizio nei confronti ancora del costruttore nei termini dei dieci anni se l'appaltatore è divenuto insolvente secondo la cosa che dice la prospettazione dell'avvocato d'agosto io alzo le mani perché è una cosa veramente è un passaggio lunghissimo gli amministratori che si succedono e l'appaltatore divenga presunto insolvente mentre per quanto concerne l'assicurazione forse avevo posto male il quesito non intendevo l'assicurazione del condominio quanto piuttosto l'assicurazione del professionista dell'amministratore che quindi interviene per responsabilità civile qualora appunto sia citato in giudizio ma guardi rispetto che io una poli che io tendenzialmente finora almeno ho sempre avuto casi di condominio ma questa cosa qui guardi non gliela saprei dire molto tranquillamente forse è meglio tagliare la testa al toro non saprei grazie se c'è qualcuno che è quel più esperto di pollice degli amministratori mi condominio faccia un fischio io personalmente lo saprei grazie grazie